Volevo iniziare un discorso sui fighting games e su perché sono fighi, molto banalmente, e condividere in realtà con voi quelli che sono stati i video, perché guarderemo, come vedete ho le cuffie, guarderemo dei video su YouTube in realtà, ma quelli che sono stati alcuni dei video che mi hanno triggerato, che mi hanno fatto tornare la voglia di appicciare, e questa volta sul serio, i fighting games, che come vi dicevo io li ho sempre giocati dagli anni 90 a oggi, ricordo quando arrivò nelle sale giochi l'estate di Street Fighter 2, che credo realisticamente fosse l'estate del 91-92, sono sempre stati una presenza fissa della mia vita di videogiocatore, ma sempre a cazzo di cane, giocando praticamente sempre contro il computer, spammando le mosse, col computer a livello fa, come si nota poi da come gioco, non ho mai voluto imparare, invece a questo giro, alla mia veneranda età, ho deciso di impararli. Vi vedremo Waku Waku 7, è una chicca super super rara, se vogliamo. Credo sia un gioco, non so se sia SNK, ma era sul Neo Geo, credo, Waku Waku 7 può essere, vorrei dire una sciocchezza, ma credo di sì. E quindi vedremo un po' di cose, in questo periodo ho anche deciso di iniziare a giocare a scacchi, quindi si combatte contro la senilità in tutti i modi possibili, e adesso vedremo, uscito ieri un video di Justin Wong, ci diamo uno sguardo di pochi minuti, ma semplicemente per la gag, bello il macigno di Sisypho, grazie mille, uscito ieri un video di Justin Wong che ci fa proprio da link fra i fighting games e gli scacchi, quindi perfetto. Però per quanto riguarda, volevo rispondere, o comunque occuparmi di quello che diceva prima Cielio, ovviamente scherzosamente, insomma, parliamole, per colpa tu mi sono messo a rigiocare a Magic. Bella, mite primezio, grazie mille. So che Cielio si può smettere quando vuole, come tutti noi. Io ho fatto un test, volevo testare, volevo verificare, eccetera, eccetera. Io, se qualcuno a causa mia, non credo Cielio, ma magari se qualcuno a causa mia finirà nel vortice dei giochi mangiasoldi, e non è ancora una volta il caso di Cielio, magari con un sedicenne con la carta di credito dei genitori, la svuoterà su Magic, ragazzi, non si sa che cosa fare in questi casi. Pazienza, pazienza. Io non posso, non posso, non è che non posso pensare a bambini, non posso ritenervi dei bambini. E so che non lo siete, perché non credo che una persona poi particolarmente giovane... In realtà non è vero, perché sono molti giovani che mi seguono, comunque sia. Per colpa tua. Esattamente, esattamente, Scott, esattamente. Quindi adesso voglio mettere a schermo YouTube, e ho già messo i video pronti, partendo da, spero che l'audio vada bene, dovrebbe essere più o meno quello di ieri, e ieri funzionava, partendo da questo video, just for the gags, che è uscito ieri di Justin Wong, e il buon Justin Wong lo vedremo nel secondo video, che dal secondo video si fa sul serio, perché mi sono preparato un po' di video belli cicciosi, no? Grazie mille Rocco del Prime, eh? Eh, sì, 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 no, no, certo, Celius, assolutamente, assolutamente sì. E' peggio così, è peggio così. E tra le altre cose, al di là di tutto, se sei forte, cioè se quindi conosci bene il gioco, eccetera, eccetera, in realtà io ti consiglio proprio di passare agli scacchi, perché per quel pochissimo che ho visto ti dà proprio quella soddisfazione che Magic non riesce facilmente a darti, e ti ripulisce lo strategico dalla monnezza che ci hanno costruito sopra. Secondo me è proprio che quando uno diventa bravo, le strade sono due, davvero. Quelli che si buttano, ma questo vale soprattutto in real, perché in real c'è tanto bluff, quelli che si buttarono sul poker proprio per cercare i grossi guadagni, e se no se cerchi il bel gioco da masterare, credo che scacchi sia una delle opzioni più interessanti. Credo che possa essere anche un percorso adesso, io l'ho fatto molto velocemente, ma perché era solo un ripasso di Magic, per essere sicuro che non volevo ricominciare a giocare a Magic, però credo che il passaggio agli scacchi abbia senso. Questo video di Justin Wong, rivedremo Justin Wong tra poco, basti dire che Justin Wong, lui ha i lineamenti orientali, ma è americano. Justin Wong è un mito della scena Fighting Games, della scena dei picchiaduri, è considerato, sì certo, Sig, dico Sig perché mi viene a pensare Sir Pagot, invece è Sig Pagot. E' un mito della scena Fighting Games, una leggenda dei picchiaduri. E quindi lui porta sul suo canale contenuti legati ai picchiaduri. E sta per uscire, uscirà a novembre, sarebbe il signor Pagot. Pagot. Pagot o Pagot? Ma è un personaggio letterario, sono sinceramente interessato, se me lo vuoi scrivere. E quindi sta per uscire, uscirà a novembre su Steam, l'ho messo nella lista dei desideri, ma per quello che vedo in questo video non lo comprerei mai davvero, perché ora vedremo un comparto animazioni veramente deficitario. Però l'idea è geniale. L'idea, citazione a porco rosso. Non mi ricordo nulla. Ma che figata. E la pronuncia era Pagot? 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 L'accento che hai messo è da Pagot. E quindi cosa fa questo videogioco? Mette insieme le due tipologie di gioco meritocratiche per eccellenza, spero bene senza alcuna componente RPG, perché nel momento in cui metti una componente RPG tutto il discorso viene a cadere, ma sono abbastanza sicuro di no. Mette insieme i due giochi meritocratici per eccellenza, cercando di fare, se vedete la loro pagina Steam, dicono che quella è la loro mission, ma è molto difficile, e mi domando, no? Ma pensa a te. Non mi ricordavo nulla, non mi ricordavo nulla. Ho capito, ho capito, ragazzi. Ho capito, figata. Non mi ricordavo assolutamente che si chiamasse così. Bella lì. Cercano di mettere insieme un gioco nel quale sia vantaggioso sapere giocare a scacchi e sia vantaggioso sapere giocare ai picchiaduro. Nel senso che, da quello che vedremo adesso, non so, il re o la regina o le torri, le torri sono i grappler, quindi sono i zanghif. Magari ci sarà il Ryu, sarà, che ne so, il cavallo, l'alfiere, sarà più un personaggio alla giuri. Me lo sto inventando, ok? Praticamente i pezzi degli scacchi corrispondono a degli staples, come si dice, non saprei dirlo in italiano, dei giochi di lotta. Da quello che ho visto, i pedoni non sono niente, i pedoni vengono mangiati senza combattere, ma quando ci si incontra con il tuo alfiere, vuoi mangiare il cavallo, ecco che alfiere e cavallo si trovano nello scenario di un picchiaduro e combattono al picchiaduro. Poi non so se il posizionamento, da quello che ho letto su Steam, il posizionamento garantisce dei vantaggi, nel senso che se il cavallo vicino a sé, e quindi ci stiamo totalmente allontanando dagli scacchi, se il cavallo vicino a sé ha una torre, la torre può dargli manforte con degli assist durante il combattimento, una cosa di questo genere. Le animazioni, i frame... Oh my God! Non so se sia il frame rate o le animazioni in sé, vedete, lì c'è stato per un attimo un assist. E lui, lui sta muovendo, sta usando la torre e pesta l'alfiere, probabilmente. Allora, bet. Grapplers. Grapplers. Vedete il... Oh, mi può mangiare! Non so come funzioni con il pedone, nel senso che non li vedo combattere, ma mangiano e vengono mangiati e basta, potrebbe essere una cosa del gioco. Da quello che gli sviluppatori... Justin Wong. Povero Justin Wong, mettiamogli una faccia... Mettiamo questa faccia qui di Justin Wong, che mi sta troppo simpatico, perché lui in realtà è un trollone ed è super simpatico, ed è ovviamente un fenomeno assoluto nei fighting games. ma sembra un gioco... È un gioco che vorrebbe essere fine e accessibile, sia per gli amanti dei picchiaduro che per gli amanti degli scacchi. A livello di picchiaduro promettono dei comandi anche modern, quindi accessibilità anche per chi non vuole fare le cose troppo complicate. Non so se possa essere interessante, vedremo andando verso l'uscita, se lui gli fa un po' di copertura, magari ci saranno... Sì, forse sì, Simo Banks, magari ci saranno ulteriori news. È interessante vedere che nella sezione commenti c'è Checkmate Showdown, che sarà il nome di questo videogioco, c'è proprio il canale loro che ringrazia ovviamente Justin Wong per la copertura e dice stiamo leggendo i commenti, stiamo leggendo i suggerimenti, stiamo prendendo nota, implementiamo tutto. Molto bellina sta cosa con gli sviluppatori che sono aperti ai feedback. Dice che lo stesso Justin gli ha dato dei feedback, certamente per la versione picchiaduro. sarebbe bellissimo, ovviamente potrà mai essere perfettamente bilanciato, essere un perfetto picchiaduro, ma perfettamente scacchi. Non sarà mai così, però potrebbe venire un ibrido in un modo suo, divertente e carino, chi lo sa, lo proveremo eventualmente. Rimarrà valido conoscere gli scacchi, conoscere meno gli scacchi ma essere forti nei picchiaduro sarà valido, sarà sbilanciato verso uno, sarà sbilanciato verso l'altra, l'una o l'altra abilità. Comunque potrebbe essere una cosa... L'idea però mi piace, mi piace l'idea perché in relazione ai discorsi che stavamo facendo in questi giorni, guarda un po', collega questi due tipologi di gioco abbastanza puri, ok? Che sono gli scacchi e il picchiaduro. Non è un caso, naturalmente la scacchiera si presta a questo genere di fantasia, però lo dico anche dei ragazzi nei commenti, ho sempre pensato agli scacchi come dei picchiaduro a turno, ho sempre pensato ai picchiaduro come degli scacchi, eccetera. È vero, è vero, è molto bella questa cosa, quindi è carino. Ma questa era così, una chicca che ho trovato ieri e volevo condividere con voi. Ora, qual è? Molti di voi conosceranno già questo video. Tra l'altro forse ho sbagliato canale. Ho sbagliato canale, scusate, perché non è questo il video. C'è un video brevissimo di dieci minuti sul mitico moment 47, no? 37. Il momento 37, sapete che... Accidenti. Accidenti, ma non era questo? Scusatemi, mi sembra strano, ma forse è lui, forse è quello il video. Ehi, ehi, aspettate. No, questo è proprio... No, questo non è... Non è lui, o sì? No. Aspettate. Voglio essere sicuro e farvi vedere il video documentaristico, diciamo, perché è molto, molto carino e spiega le cose molto bene. Però non ricordo come si chiama il canale, ma è un canale gigante con milioni di iscritti che si occupa di e-sports. Tra l'altro c'ho visto un video molto interessante su StarCraft, non avrei mai immaginato. ma... Ah no! Action e-sports. Però ho scritto action così. Ok. Ok. È il loro video che mi interessa. Ecco, Evo 36, Evo Moment 37, The Daigo Perry. Il Perry di Daigo. Il più grande momento nella storia di Picchiador. Questa è un'autotraduzione, ovviamente. Scusate che non riesco ad abbonarmi, non riesco fisicamente ad avere voglia di abbonarmi a YouTube. Eccoci qua. Questo è un momento leggendario e credo che questo video in realtà, tra virgolette, non abbia bisogno di chissà quali commenti, ma farò ovviamente una marea di commenti interrompendolo mille volte, perché spiega bene quello che è successo. E secondo me è un video. Ovviamente questa giocata, come succede anche negli sport normali, per così dire, è per quello che è è contemporaneamente sopravvalutata e giusto valutata. Nel senso che ci sono tante giocate incredibili, figurati, però questa ha avuto la fortuna di diventare storica, di diventare leggendaria, eccetera, eccetera. Diventa un'icona, quindi c'è sempre una deformazione quando qualche cosa diventa iconico, questo è giusto. Da un punto di vista tecnico è una deformazione, per quanto c'è una falla tenna giocata del genere in un torneo, è assurdo, però se ne vedono anche altre di cose così poi. Però rappresenta un momento mitico, ma soprattutto è fondamentale perché secondo me serve a capire quella che potremmo definire la mistica di questo tipo di giochi, perché c'è una mistica dietro ai picchiaduro, che per alcuni è legata a quella che potremmo definire la subcultura dei film di arti marziali che vanno da Bruce Lee alle robe un po' alla Van Damme, eccetera, che non è mai stata, io non sono mai stato un fan di quella roba lì, oppure un pochino ovviamente anzi la cultura degli arcade, quindi le sale giochi, figuratevi in Giappone, ma anche in Occidente, l'epoca delle sale giochi per cui spiegava lo stesso Maximilian Dude, la scelta dell'arcade stick in realtà è una scelta culturale per preservare una cultura, un'epoca in qualche modo, tutti questi discorsi. Si capisce anche attraverso la visione di questo video come esiste una lore della cosiddetta fighting games community, la FGC, e ci sono delle ragioni narrative per l'innamoramento di alcuni per questi giochi e per il fascino di questi giochi. Io non mi ci sono mai messo, ma li ho sempre trovati incredibilmente affascinanti, ho sempre subito tantissimo il fascino. Ovviamente, a proposito di questo parallelo fra i picchiaduro e il cinema d'azione alla Van Damme, è inutile dire che i picchiaduro e il cinema d'azione alla Van Damme si sono incontrati, ma si sono incontrati tantissimo, perché comunque il personaggio di Johnny Cage in Mortal Kombat è un omaggio a Van Damme in non mi ricordo più quale film, quindi il parallelo c'era già, ma qualche anno dopo ci fu il famoso orrendo, ma brutto, è così brutto che è divertente film di Street Fighter, in cui, se non sbaglio, Van Damme e Guile, c'era Kylie Minogue che faceva a Cammy, ragazzi, forse i più giovani non soppranno neanche chi è Kylie Minogue, ma immaginatevi come sarebbe Taylor Swift dell'epoca, e c'era il povero Raul Giulia che è stato esattamente sì, maniaco, esatto, c'è la skin di Van Damme su Johnny Cage nel Mortal Kombat che esce tra qualche giorno e c'era Raul Giulia che è stato un grandissimo attore teatrale di cinema, che poverino, era morente, era malato di tumore al fegato e morirà poco dopo e la sua ultima interpretazione fu Mr, io dico Mr. Bison, fu M. Bison nel film, il cattivone ovviamente, nel film di Street Fighter ed è una cosa che è rimasta, è un po' assurdo che un grande attore come lui venga ricordato per un film trash, come era il film di Street Fighter, al tempo stesso però è una cosa bella perché lui lo fece anche come omaggio, lo fece per fare felice, non mi ricordo se è sua figlia, sua nipote, adesso non mi ricordo però, forse è la figlia, non mi ricordo, che era appassionata di videogiochi, e quindi nonostante fosse malato e stesse letteralmente morendo interpretò Bison esattamente, esattamente, Cellius, interpretò Bison in questo film mitologico, diciamola, per metterci un pochino di ironia e questa frase che vedete qua vedremo poi anche alla fine è una citazione di Bison che parla a Chun-Li durante il film, insomma. Andiamo avanti. Mi scoccio se tolgo i sottotitoli in italiano perché mi danno un po' fastidio, tanto si capisce quello che dice perché sono sempre un po' indietro sono sempre olivolette io sinceramente li togo sono sempre in questo leggero ritardino del cats dai si sente si capisce quello che dice c'è un inglese facilissimo grandissimo 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 quindi vabbè siamo siamo veramente nella mitologia totale qui è fantastico perché sembrano due giapponesi ma ovviamente il buon Justin Wong è americano e Daigo con la sua con la sua fredda io non sono poi ovviamente un esperto di questi giochi però diciamo che c'è questa mistica intorno a Daigo per cui è freddo impassibile ed imperturbabile nella freddezza dell'imperturbabilità ti sfonda con dei rush quasi quasi furiosi però sempre senza uscire dallo zen e adesso poi lui descriverà in realtà benissimo per dire una cosa questo è il 2004 quanti cazzo di anni sono passati il 2004 sono passati 19 anni o sbaglio erano molto giovani ma ancora oggi sono due bestie guarda il contesto questo è Evo Moment 37 Evo Moment 37 took place on August 1st 2004 at the Evolution Fighting Tournament la quantità di braga no? in quelle in quegli ambienti chiusi di solito templi della verginità o quasi the following year a DVD highlighting the best moments from the event was released and the clip in question was arbitrarily named number 37 la braga sarebbe i pantaloni da uomo per dire che sono tutti maschi even though people at the time knew it probably should have been number one the moment took place during a specific match between two very very good players quindi Moment 37 è casuale c'erano hanno fatto sto cacchio di DVD altri tempi con gli highlight e questo era il numero 37 quindi è rimasto il Moment 37 hailing from japan Daigo Umihara was the face of fighting games in his home country known simply as The Beast Daigo made a name for himself after winning the Street Fighter national title in Japan at the age of 15 and then defeating North America's best player Alex Valle in Street Fighter Alpha 3 at the age of 17 known for his meticulous approach to fighting games Daigo is equal parts cold calculation and red hot aggression forcing his opponents into difficult situations and methodically breaking them down piece by piece his opponent Justin Wong was considered one of America's finest 2D fighting game players and was sort of the antithesis to Daigo's aggressive playstyle known for his conservative turtle style and his mastery of that fundamental neutral game tool known as footsies Wong played between the bars quindi il turtle style è stare a tartaruga no? i footsies è fare piedino cioè quando i due personaggi sono per terra e studiano le distanze cercando di marcarle avvantaggiandosi sull'altro magari con la tecnica del buffer di cui si parlava e quindi è come se si facessero piedino che è una cosa tipica dei picchiadori quindi abbiamo da una parte il gelido giapponese però furioso nella sua tecnica offensiva e dall'altra l'americano che in realtà è un simpaticone ma che è un super difensivo eccetera ma la cosa che mi fa esatto colorismo la cosa che mi fa ridere di brutto la cosa che mi fa ridere di brutto di questa cosa è che sentite la narrazione cioè è già un film trascione con Van Damme capito? è già nel quartiere oppure il grande torneo internazionale c'era il giapponese noto per il suo stile e poi l'americano un po' più sembra già uno di quei cazzo di filmazzi da cui sono stati tratti questi videogiochi da cui sono stati in realtà venuti fuori questi tornei eccetera è tutto una rima no? bella incontri letterari grazie mille del prime karate sì sì quelle cose lì quelle cose lì di cui io sinceramente ho adorato i videogiochi picchiaduri mi sono sempre piaciuti quel genere di film ho avuto da ragazzino mi stava simpatico Van Damme tra tutti quei tre show però non l'ho mai veramente ho visto alcuni suoi film ovviamente tipo quello in cui il tizio gli dice affrontalo però non è una tipologia di film che mi ha mai veramente appassionato ero più da robe più big budget come i film con Schwarzenegger con Stallone ma in realtà questo è proprio quel mondo alla Van Damme Steven Seagal Chuck Norris avete capito da videocassetta come poi in realtà erano poi i film di non è Spike Lee non è Chun Lee ma è Bruce Lee madonna maniaco sì sì non c'entra ma c'entra non c'entra anche Jackie Chan certamente sì non c'entra ma c'entra perché in realtà il mood è quello il mood è proprio quello e niente andiamo avanti e qua sta ancora descrivendo Justin Wong c'è da dire che in questo gioco Chun Lee è considerato il personaggio più forte o comunque all'epoca era senza dubbio è considerato più forte il gioco è Street Fighter 3 Third Strike che è ancora oggi direi tra gli esperti quindi io non ne so niente ancora oggi considerato la crema della crema dei picchiaduro tra l'altro è interessante sapere che Street Fighter 3 Third Strike e in generale tutta la serie di Street Fighter 3 fu un flop commerciale totale e Capcom cioè Street Fighter più che Capcom Street Fighter rischiò di chiudere completamente è stato quindi sono stati giochi flopponi ma Third Strike poi è diventato perché lo era la crema per i pro player insomma e quindi oggi è un gioco leggendario in realtà fu un insuccesso commerciale notare che questo io me lo ricordo perché una volta volevo vedere le mosse di non so che personaggio mi sembra di Street Fighter 4 e esisteva un sito forum che si chiamava Shoryuken ma non esiste più però esiste era un sitone figo tutti i personaggi erano con tutte le mosse illustrate bene ma io l'ho visto qualche volta di recente ho detto ma ti ricordi quel cazzo di sito adesso potrei andare a vedere ho capito che è fallito è scomparso sicuramente c'è tutta una storia io tra questo mitico sito sparito che gli esperti conosceranno io no ma so che è stato peso su Web Archive probabilmente si trova qualcosa ma anche sti cazzi oggi c'è YouTube però insomma esatto le pronte con le tue recensioni stellari e i nostri prezzi convenienti inizia subito la tua ricerca su Amazon bene bene madonna madonna ragazzi sta diventando dura era la cintura di castità stiamo cercando di fare una battuta e non mi era venuta era la cintura di castità è perfetta era veramente comunque va detta che oggi Justin Wong è sposato con una figlia quindi alla fine ha qualche cosa tutti quei pugni non era la finale e nessuno dei due vincerà questo torneo ma è comunque rimasto il momento più mitico dei mitici ovviamente Highscore Girl ne ho parlato Salvutz secondo me allora l'adattamento italiano è pessimo ci sono degli errori giganteschi come ad esempio a un certo punto bello Square Enix che ha rilasciato Final Fight 4 e sono nel 1991 e hanno appena giocato Final Fight 1 ovviamente è Final Fantasy 4 quindi è pieno di errori molto gravi palesemente di traduzione perché in realtà secondo me i riferimenti sono fatti benissimo ed è molto sono molto fighi i riferimenti ai videogiochi rende molto bene l'idea di quella cultura in ambito giapponese ovviamente l'anime in sé però io vi dico a un certo punto sono andato veloce a guardare solo le parti con i videogiochi perché dell'anime non me ne fregava un cazzo però le parti i riferimenti culturali sono veramente fighi e ci sta a vederlo esattamente Riley esattamente no Proioxis no perché ho iniziato il gioco da giocare adesso ho iniziato praticamente adesso il gioco da giocare adesso Street Fighter 6 forse per me giocherai i giochi SNK che sono i miei preferiti però ci vuole una numerosa community piena di noob come me per avere avversari con cui imparare e quindi sono in una fase in cui devo stare sul gioco più popolare e quindi Street Fighter 6 adesso Mortal Kombat poi sarà Gran Blue Fantasy poi sarà Tekken poi quando sarà sarà Project L probabilmente Arc System se la ritrovo la ritrovo più avanti ma per ora va così è anche easy to see oltre al clash of style le animazioni le animazioni sì sì Reilner sono d'accordo le animazioni di Street Fighter 3 sono qualcosa Third Strike sono qualcosa di incredibile questo è uno dei videogiochi 2D meglio animati di sempre è la fluidità e come il gioco riesce a restituirti i movimenti degli sprite dei lottatori è qualcosa di straordinario nel picchiaduro abbastanza ci si avvicina Garou Mark of the Wolves e molto più tardi King of Fighters 13 ma a livello di animazioni 2D questo gioco è veramente veramente bellissimo molto molto bello è un grande capolavoro a parte tutto Diogo is trying his best to break through Justin's wall of pokes to land a hit while Wong is biding his time staying just out of range and stuffing Diogo every time he tries to advance Sometimes Justin just sits there menacingly throwing out moves into the void Diogo a player known for his unflinching composure is visibly frustrated by Justin's turtle style and the commentators take notice Rare footage of Diogo actually angry At this point Rare footage of Diogo actually angry Both players have won one round Going into round 3 J-Wong lands two meaty combos building a nice lead for himself and giving him some breathing room to sit back and play defensively Realistically given how much health he has he could just sit back and let the timer run out Come vedete Justin Wong ha tutta la vita del mondo Diogo è abbastanza vicino alla morte ok So now the ball is in Diogo's court and if he wants something to happen he has to make it happen After being walled out by jabs and low kicks for a good 10 seconds Diogo finally finds an opening landing a string of attacks and backing J-Wong into the corner After a few mix-ups and a successful throw J-Wong manages to jump out and reset the neutral game once again releasing all pressure As Diogo tries to chase him down the two trade low kicks and Diogo's health Ok Guardate la vita Questo rimane è al classico è al classico punto vita The health bar is reduced literally as low as it can go At this point any hit even one that is blocked will knock Diogo out since in Third Strike players can be knocked out by chip damage In this situation there are Il chip damage è quando è esatto è quando se io ti faccio la super e tu ti pari comunque il dannino te lo faccio se hai messo così male che mori lo stesso Il perry il perry qua sentiamo qua sentiamo un riverbero da Dark Souls ma ovviamente questo è un gioco precedente ma il concetto di perry non lo inventa nell'uno o nell'altro però diciamo che lui è messo così male che può solo evitare i colpi o fare il perry ok sta roba la fai solo nel Sator sta roba la fai solo se entri a contatto con il divino veramente perché è una situazione disperata La cosa allucinante che lui ora spiega bene è che ti fa capire il livello ma è sempre così nei grandi giochi figuriamoci negli scacchi la cosa allucinante è che Daigo non può limitarsi a giocare Ken Daigo deve giocare anche Chun-Li lui deve riuscire a far fare a Justin Wong la cosa di cui lui ha bisogno per vincere ok a questi livelli he knows that Chun-Li has enough meter to perform her super and banks everything on baiting Jae-Wong into using it as it turns out that gamble pays off for a moment both players stare each other down like two samurai swords drawn sizing each other a moment of pure serenity in his book of pure serenity un momento di pura serenità che figata ragazzi ma quanto è bello sì 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 assolutamente sì Steve assolutamente è proprio così è proprio così ma credo sia schiacci sempre che mi avete consigliato e che veramente mi avete dato un consiglio bellissimo non so se sia lui che lo dice comunque è proprio così è esattamente così sì 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 peraltro Steve Seidigo non avesse audio cues suggerimenti audio per aiutarlo a fare il full perry a causa del rumore del pubblico di conseguenza andava solamente a memoria che per come io non posso io sono una puzza a questi giochi però io gioco senza le cuffie perché l'audio in realtà per me è più facile giocare solo con gli occhi ma poi ognuno diverso chissà che in qualche modo in realtà usare soltanto gli occhi e la memoria perché poi vedremo che di fatto deve anticipare chissà che in qualche modo in realtà non sia stato più zen come cosa comunque ora lo vediamo e sai che non mi ricordo Simo Vanks è sicuramente Kurosawa ma non mi ricordo potrebbe essere potrebbe essere ma è un film che ho visto un po' troppo tempo fa la will to keep winning Daigo reflects on this moment saying quote I remember feeling the pressure as I watched my life gauge dwindle thinking this might be the end when he had me in that corner I entered into a zen-like focus prepared to do whatever it took in an instant all hell broke loose cavi quella porca capsule molli che agiscono due volte più velocemente contro il dolore il dolore me l'hanno provocato le capsule ce lo stiamo porca di quella porca ma veramente veramente porco colpa mia raga devo fare sto cazzo di abbonamento perché non si può andare avanti così che palma ma poi come l'hanno messo ora rivivremo tutto guardate il picco nelle visualizzazioni rivivremo tutto dwindle thinking this might be the end when he had me in that corner I entered into a zen-like focus prepared to do whatever it took in an instant all hell broke loose jay wong inputs Chun-Li's super and everyone in the audience knows that it's over given the spacing and Daigo being on the ground it was impossible for him to get out of the way in time and with the flurry of 15 consecutive kicks about to be unleashed even if he had the wherewithal to block he would die from chip damage it's a lose-lose situation because no matter what Daigo is going to get hit and he has no HP to spare but let me remind you there's a reason why Daigo Umehara is known as the beast as Chun-Li surges forward instead of holding back to block Daigo does the unthinkable ma la cosa assurda è che lui gli ha fatto l'esca lui ha voluto quella mossa e l'ha ottenuta perché era l'unica cosa che poteva fare per fargli tutto quel danno no? così la cosa bellissima di questo perry è la cosa bellissima di questo gioco è molto diverso in Street Fighter 6 sono due tasti insieme e spesso c'è la shortcut di un tasto solo la cosa bellissima è del perry di sto cazzo di Street Fighter 3 a cui non ho mai giocato se non tre secondi sull'emulatore ma così a cazzo di cazzo la cosa bellissima è che tu devi premere avanti cioè il tizio ti sta menando e tu premi in avanti è proprio esporti al rischio nel modo più paletto se lo sbagli sei proprio colpito che più colpito non si può è una cosa veramente bella è una meccanica in cui solo la conoscenza letteralmente frame by frame di tutte le mosse di tutti i personaggi ti può consentire frame by frame più o meno di fare il perry e questa mossa di Chun-Li esatto alla secchio e questa mossa di Chun-Li quanti cazzo ne deve fare di perry 14 uno in salto perché ora lui spiegherà non si tra perché lui ha voluto questa mossa di Chun-Li perché lui si riempie la bar la mossa che lui finale fa con Ken non l'avrebbe potuta fare prima della mossa di Chun-Li perché facendo tutti quei perry è l'unico modo che lui ha per riempirsi la barra e quindi lui che era lì con un punto vita pensa io ho bisogno di fare una marea di perry per riempire la barra conosco a memoria sia il mio che il suo lottatore ovviamente e io ho bisogno di quei cazzo di calci di Chun-Li perché solo così mi riempirò la barra ok ok e sì questo è un bellissimo canale Action Esports a parte l'ultimo video che hanno fatto che tra l'altro è proprio sui controlli modern controlli classici che quando è uscito ha detto figata e invece non dice niente l'ultimo video mi ha incredibilmente deluso non dice nulla però per il resto è un canale veramente molto bello e tra l'altro palpi anche l'interno coscia di Chun-Li vorrei aggiungere questo è Justin Wong che lo prova per gag in live sul suo Twitch perché è uno degli obiettivi della training mode credo della versione PS3 che poi hanno fatto del gioco 3,4,5,6,7,8 no 7 wait wait was it 7? but to do it ok ok on stage è un po' è un po' il modo di turno Wong'e offence Oggi, con ogni successo parry Daigo è building il metere E per capire il string di defenso brillante Il jumpa a parry Chun-Li's last kick in l'air Posizioning himself perfectly per punire l'endlag con un kick di suo Che links into a low kick Then un uppercut E poi Daigo spends his newly built metere Unleash a super right back In Jay Wong's face There is simply no more beautiful way That this sequence could have ended Say what you will about this clip That it wasn't optimal Or the inputs aren't that hard Or that Jay Wong sold Because he could have just run out the clock Those criticisms just aren't really valid Regardless of what armchair fighting game analysts Might have to say The fact is Evo Moment 37 changed gaming as we know it And transcended just video games As Cole Travis says Evo Moment 37 was not just a fighting game match It was a singular moment that showcased that gaming Can have the same significance as any sport out there It was Jordan hitting the buzzer beater in game 6 It was Ali knocking out George Foreman It was Babe Ruth calling his shot And hitting it out of the park To be in front of a packed room of screaming Street Fighter fans Battling for your tournament life in losers bracket And to have the composure To perform one of the most daring sequences ever captured on film Is simply breathtaking Although Daigo would win this set And then go on to lose in grand finals That's not why people remember Evo 2004 People remember Moment 37 The instant where North America Got to witness the beast with their own eyes Moment 37 would go on to become one of the most viewed gaming clips of all time Propelling Daigo to superstardom in Japan and around the world And is often cited as the most important esports moment of all time Tra l'altro Daigo è un personaggio Cioè è una persona sponsorizzata da Red Bull Quindi anche Red Bull ha deciso di investire Sull'icona del competitivo videoludico E' figa sta cosa E si si ricarico questa qui La rimetto su Wesaplay Dai tanto è una live videoludica Esattamente Steve È una cosa È una giocata sensazionale Sensazionale Lui ha scelto il paragone Io non mi intendo tanto di box e di baseball Quindi non sono in grado di pescare lì Lui ha scelto il tiro di Michael Jordan contro Cleveland Ma che è considerato The Shot Ma in realtà una cosa analoga Che ho visto nello sport L'ho vista fare Michael Jordan Ma sono È il finale contro gli Utah Jets Nel 1998 Quando lui in una quindicina di secondi Fa una palla rubata Attraversa il campo Fa sedere il difensore Con una malizia E mette il tiro decisivo Con i Bulls Con il culo per terra Con Pippen con la schiena rotta Avrebbero sicuramente perso Gara 7 E i Jets li andavano ad asfaltare E quella giocata Che la vidi dal vivo La vidi in diretta Dal vivo non è giusto Ero a Cesenatico Non ero A Salt Lake City Dove credo sia accaduta Sì Ero a Cesenatico A casa di un amico di notte Su Tele più La vidi in diretta Ed è stata una cosa Irreale Come credo sia stata questa Qualcosa di semplicemente irreale L'unica cosa L'unica serie di giocate Che potevi fare Per vincere la partita Tutte fatte Insteccate una dopo l'altra Una cosa simile Una cosa simile No no Lui ha messo Lui ha messo Quella contro Oddio Era No 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 Vedi vedi Non sono i Jets Non sono i Jets E Cleveland È una giocata All'inizio dei playoff Vedi sono i Cavs All'inizio del playoff Del 91 Che è considerato The shot Perché lui decise Una serie playoff Con un tiro incredibile Alla fine Ma Ancora di più Secondo me Quella sequenza Perché è proprio Una sequenza Alla fine Di quella che doveva essere L'ultimo minuto Della sua ultima partita Poi tornerà con i Wizards Ok In un ritorno Che viene sbertucciato Stupidamente Perché fu incredibile Fu straordinario Michael Jordan Con i Wizards Non fu la pippa Che si suole dire Fu straordinario E i Wizards Prima maniera con Michael Jordan Senza gli infortuni Erano una squadra Da deep run Nel playoff Tra l'alto Tutte cose che Veramente sono alcuni Canali americani Che Devo dire hanno Avuto la bravura Di specificare Perché ci sono un sacco Di pregiudizi Comunque A parte questo Ehm Her own eyes Moment 37 Would go on To become one of the most Viewed gaming clips Of all time Propelling Daigo To superstardom In Japan And around the world And is often cited As the most important Esports moment Of all time Over the years The moment has been Referenced and celebrated Time and time again In Third Strike Online There is an achievement For performing The Daigo parry Daigo and Jaewon Recreated the moment Ten years later During a Third Strike Exhibition match And even to this day People can't stop Trying to land it Against Jaewon Himself Who often streams Himself playing Third Strike Online Oh he got it You think he got it bro You think he daigo You ain't daigo Oh he's daigo He's daigo He's daigo No Ragazzi Justin Wong Justin Wong È veramente Un grandissimo Non si può Non avere simpatia Perché è uno Veramente super sportivo Super simpatico E tra l'altro Recentemente Lui è andato Non si è trasferito Lui sta in America Ha fatto un viaggio Nel sud-est asiatico Credo sia stato In Thailandia E altri posti del genere E quindi è andato subito A giocare online A Street Fighter 6 Per giocare contro i giapponesi Che il livello È considerato più alto E ha beccato Daigo Hanno fatto un match A Street Fighter 6 In cui Justin Wong Usava Kenmi E Daigo usava Ken E Daigo Gli ha fatto la cosa più E non si parlavano Perché erano semplicemente online Però ha detto Cazzo questo è Daigo E Daigo Lo ha battuto Facendo una cosa La cosa più simile Che poteva fare In Street Fighter 6 Al Moment 36 Infatti è stata una figata Ma lui è sportivissimo Justin Wong Mi sta troppo 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 simpatico Sono entrambi su Twitch Assolutamente sì E il problema È che Daigo Ovviamente è giapponese E streamma In giapponese For the next 15 years Daigo and Jaewong Would have one of the greatest rivalries In esports Facing off numerous times In tons of different titles But the one That we always come back to Is that first meeting And you'd think for the role He played in such an iconic moment That Daigo would look fondly On Moment 37 But A true competitor To his core Daigo looks at Moment 37 As just another stepping stone On his way to victory Nothing special Just the best available option Executed to perfection I'm sorry I don't remember any of it You don't remember? Evo Moment 37 For you The day Daigo Grace Evo 2004 Was the most important day Of your life Che straccio But for me It was Sunday Che cazzo This video Is made possible Thanks to our wonderful patrons Massive thank you to everyone The movie Come dicevamo prima Eh sì 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 Io sapete su Street Fighter 6 Adesso ci guardiamo un po' di altri video Perché se ne sono alcuni che Che mi piacciono Assai In realtà vorrò vedere questo qua di Polygon Che è abbastanza famoso Perché mi interessa Street Fighter 6 Chiaramente a seconda del tuo livello È un gioco diverso Io non sono in grado Di capire davvero Di riuscire a criticarlo davvero Ma Non ho ancora capito Se il Drive Impact Sia Una figata O una Una poracciata Non l'ho ancora capito Non capisco se sia una cosa Che in fondo ad alti livelli Non Non conta poi così tanto Quindi chi se ne frega Serve per fermare gli spammoni Ai bassi livelli Però poi lo spammi a tua volta Il Drive Impact Mentre il Perry è una figata che ci sia E vabbè Il Drive Impact Non l'ho ancora Non so che cosa pensarne davvero Comunque c'è questo video C'è questo video Dopo vorrei vedere qualche cosa Del buon Maximilian Dude Che è Come ho detto tante volte Secondo me il miglior Divulgatore E giocatore Ormai ex professionista Insomma a livello Pro Non Non elevatissimo Ma comunque a livello pro Ed è il miglior canale Sui fighting games Che c'è Secondo me Anche se poi Ora Questi lavorano con le software Stanno facendo la promozione Incredibile A Mortal Kombat I soliti discorsi valgono sempre Ho capito Ho capito Sajam 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 Aspetta me lo cerco Grazie mille del consiglio Mentre penso Questo qua è un video di Polygon Ed è anche abbastanza vecchio Di qualche anno fa Questo che voglio vedere adesso L'ha anche L'ha anche commentato Maximilian Dud Quindi è interessante Anche andare a vedere La sua diciamo reaction Che poi sono commenti Come era Sajam Ah ma Io ce l'ho presente lui Ho capito Me lo devo aggiungere allora Figata Bello E grazie Sì 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 Poddo Assolutamente sì Assolutamente Poi una cosa interessante Che notavo È che Non Non Cioè È una meccanica Che equalizza I vari Lottatori Però non è uguale Per tutti Credo Da un punto di vista Di quanto spazio copre Ma soprattutto Non è Non è la stessa difficoltà Reagire Perché ad esempio Io vedevo che per Blanca Le luci che appaiono Sono verdi E sono molto simili Al Drive Rush E quindi se vogliamo È un po' più difficile Reagire con un Drive Impact Al Drive Impact Di Blanca Perché potresti confonderlo Col Drive Rush Insomma Sono delle Delle piccole Accortezze Da avere Ma comunque Questo video di Polygon È la storia Di uno dei ragazzi Di Polygon Non il mio Non il mitico Come si chiama Dave Dave Gilbert Com'è che si chiama Com'è che si chiama Il grandissimo creator Che ha mollato Polygon Adesso fa le cose da solo Super deliranti Brian David Gilbert Non mi ricordo Ha tre nomi Sì Brian David Gilbert Che è stato per anni Il volto di Polygon Aspettate Lo faccio vedere Così vi orientate Che ora non lavora più Con Polygon Lavora in proprio Ma è un E lui è un po' Un Luis Ok Molto canterino Però Lui è un grande Adoro Brian David Gilbert E lui è stato per anni Volto di Polygon Questo è un altro Un altro dei ragazzi Di Polygon Ma se io non ho capito male Il drive impact Non scomba Ok Quindi tu lo puoi inserire In delle sequenze E sono d'accordo Con quello che ha scritto Kefka Lo puoi inserire In delle sequenze Ma il drive impact Se uno fa un drive impact C'è stato Un frame libero In mezzo Correggetemi se sbaglio Quindi non puoi dire Certo lo puoi dire Per l'esperienza Tu puoi dire Dopo queste cose qua Tipicamente si fa un drive impact E sono Ah ci sono delle cose In cui scomba Sorry Allora sicuramente Come ha detto Sdiano È vero Ciò nonostante Per quanto quello che ha detto Kefka sia giusto Capita L'ho visto anche nei match Di Wong e di altri Capita il drive impact Non dico a cazzo di cane Perché non lo è Però così Succede anche agli altissimi Una volta ogni 20 match Ma succede È comunque un'opzione All'angolo può avere un senso Cioè Ai bassi livelli È una cosa un po' strana Perché ti ci rifugi Se non sai fare le cose Come faccio io E rischi un po' di spammarlo Ah ho capito Ho capito Pesissimo Ho capito Vediamo invece Il nostro amico di È vero È vero Shtiv Vediamo il nostro amico Di Polygon Che racconta Un'esperienza Che è molto interessante L'esperienza Di un giocatore Che dice Io vorrei giocare Picchiaduro Però non è facile La storia di tanti Mentre vediamo I decided to try For real Di un giocatore Di un giocatore puoi usare questo video come un gentile supportivo che carino here's my 10 step guide for getting into fighting games without losing your mind non vi sto a dire che quando Max Maximilian Dude reagisce brutto reagisce analizza e commenta questo video è contentissimo perché riconosce in questo ragazzo uno che ha capito bene e che fa lo promuove alla grande baffo importante sì 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 step 1 decide you want to do it you got this this one's kind of obvious but it's also essential your desire to get into fighting games is going to be the thing that fuels you through the hard stuff if you're fighting game curious but you're not sure if you're ready to take the dive there is some other stuff you can do to gradually expose yourself for starters watch some matches it's reversal he wasn't looking it's really exciting to see the top players just going nuts here are some of my favorites Goichi vs Sonic Fox at EVO 2018 rules it's like an unstoppable force versus an immovable object I'll plan them right now thank you Goichi's defense is like an iron wall but Sonic Fox's offense is just relentless you know that Sonic Fox is going to do some work as soon as they get an opening so every mix-up is just so tense it's like an iron wall it's like an iron wall it's like an iron wall Lil Majin's whole EVO 2018 run was also great Lil Majin's whole EVO 2018 run Lil Majin was an American player in a game that was historically dominated by Korean and Japanese players so it's a combination of an underdog with the home field advantage plus he's playing a super fun character with big splashy moves Majin! Big honor! but it's not just about what the players are doing hearing the audience and commentators get excited and pop off for the big moments will help you figure out what's important and what to pay attention to and he's so scared of getting hit because he's got that beat trigger no it's gonna hit here into the critical arc che figata sto costume di Sakura ho interagito e lui ha palpato la mia attenzione ha deciso di darmi della pubblicità esatto andrei vorrei sottolineare che in quella clip di Tekken c'era Geese Howard che è super cattivo di Fatal Fury che è un un ospite di Tekken 7 mitico Geese Howard if you're in the mood to chill and watch some super thoughtful accessible video essays about the underlying mechanics and philosophies of fighting games pop on Gerald Lee aka Core A Gaming my personal favorite is why button mashing doesn't work also follow some fighting game people on twitter and twitch and stuff there's a lot of people doing really interesting streams and posting funny clips that are going to make you want to play whose idea was it to make his pubes his legs we hear the mess trying to tech you with the refrigerator you thought it was but he unplugged that shit off the wall let's get money there will be a lot of in jokes and terminology you don't understand but you'll pick it up soon enough through context clues and if you need a helping hand check out the infill.net fighting game glossary they have explanations of all the jargon step pick a game qua è meglio qua sono meglio i suggerimenti qua dirà credo piglia il gioco che ti ispira che ti gasa che è un buonissimo suggerimento ma in realtà il suggerimento che dà max è molto migliore max ha fatto un video come vi ho già detto che risponde alla perenne domanda qual è il gioco migliore per iniziare è il gioco migliore per iniziare il gioco che c'è adesso è il gioco a cui giocano più persone perché troverai un pool di giocatori che comprende giocatori del tuo livello e quindi ti potrai divertire motivo per cui non gioco a king of fighters 15 anche se ce l'ho altre cose perché ora già incontro o guilty gear strive perché ora incontrerei solo gente che è rimasta nel gioco e si sa giocare quindi farei molta fatica invece si poi adoro street fighter 6 quindi sono contento però esce mortal kombat 1 non me ne frega non so come comunicarvi in italiano che non me ne frega un cazzo di mortal kombat mi stava sul cazzo anche all'epoca di mortal kombat 1 chi se ne frega ci si butta perché sai che ci si stanno buttando tutti e questa è anche una sfiga dei picchiaduro perché sono giochi che sono da giocare all'uscita e come videogiocatori sappiamo tutti che la cosa più furba da fare è giocare un gioco 5 anni dopo che è uscito che non costa un cazzo è strapacciato è strassistemato e però il picchiaduro se è un picchiaduro grande possono essere anni tipo street fighter 6 saranno anni se è un picchiaduro piccolo saranno 2-3 mesi però è lì che c'è la ciccia del multiplayer e questa cosa è un po' un pacco perché cosa qual è la caratteristica di un videogioco all'uscita costa e infatti quanti soldi sto per dare per mortal kombat 1 70 euro e ho voglia di bestemmiare tutti gli dei dell'olimpo motivo per cui purtroppo non ho provato e sarebbe stato da provare e da promuovere pocket bravery che è un progetto indie molto carino perché mi stai in mezzo poco prima mortal kombat che cazzo non ce la faccio e quindi e questo è un problema si king of fighters poi ha dei problemi però a me piace di brutto poi io adoro l'estetica SNK però sarà per il prossimo Garou che ci rivedremo con SNK probabilmente andiamo avanti a questo aggiunto a proposito del discorso legacy questo discorso si supera quando diventi bravo quando diventi bravissimo il problema non esiste più puoi giocare Street Fighter 3 Third Strike puoi giocare Marvel vs Capcom 2 puoi giocare King of Fighters 98 perché c'è una piattaforma come Fightcade che è un emulatore condiviso detta malissimo in cui è come andare in sala giochi trovi un sacco di persone che giocano sempre a questi giochi storici super fighi uno dice ma perché non lo fai subito perché c'è la gente non brava di più quindi quando diventi bravo ti emancipi da dover giocare l'ultimo gioco uscito perché in attesa che esca qualcosa che ti interessi e bla bla intanto vai su Fightcade e incontri i fighi e sei figo anche tu però ok quindi in realtà i giochi storici sono ancora giocatissimi vedi Street Fighter Treasure Strike King of Fighters 98 King of Fighters 2002 eccetera eccetera Marvel vs Capcom 2 Capcom vs SNK 2 sono giochi stra giocatissimi non sono la cosa in questo al contrario di quello che sembrava dicessimo prima questa è la figata dei picchiaduro in realtà i giochi non passano mai di moda i grandi giochi continuano ad essere giocati per decenni letteralmente per decenni e questa è una cosa bellissima grazie mille Wazdund e questa è una cosa veramente bellissima però se io dico sono un novizio mi piace King of Fighters 2002 e te credo forse è il gioco più bello che esista mi piace King of Fighters 2002 voglio giocare a King of Fighters 2002 online con la gente che ci gioca ce n'è tantissima ma verrai spazzato via da verrai annichilito e quindi prima ti devi fare tanta devi mangiare tutta la pappetta se ne hai mangiata proprio tanta forse un giorno puoi andare a fare queste cose oppure ad esempio giochi che non sono su Fightcade penso a un Killer Instinct che sta su Steam o altri tipicamente ma qui magari mi correggerete voi tipicamente ci sono i Discord dove tu sai quando ci sono i giocatori ci si organizza eccetera però anche qui sono gli appassionatissimi e bravissimi che sono rimasti sono tanti non immaginatevi i quattro gatti però comunque è un circolo aperto non è chiuso però capito se vai lì come si fa la Duken e nel frattempo ti passa un treno sulla faccia quindi è una fase successiva però quindi c'è il bruttissimo difetto per il novizio del ho bisogno di giocare al gioco appena uscito che è una sfiga si va tutti insieme e trovi gli altri novizi però costa è molto costoso ma c'è la figata per cui un gioco del 1998 sia pure in revisioni successive è ancora giocatissimo vedete quello che succede con Smash Brothers melee è ancora giocatissimo e quindi questa è una cosa bella è molto in realtà i grandi capolavori vengono preservati e poi c'è il mondo delle mod che non è da torneo direi però ad esempio esiste una scena mod su Marvel Ultimate Marvel vs Capcom 3 che so che è molto interessante e poi c'è tutto un altro mondo che è per i pervertiti che sono le skin di Street Fighter 6 che sono una cosa molto bella però bisogna essere dei pervertiti se lo siete benvenuti andiamo avanti e questo come ho detto non è del tutto vero non è del tutto vero cioè è bella la cosa la filosofia di questo video mi piace molto perché è giusta ed è scegli il personaggio che ti gasa da vedere frega te ne sei top tier o non top tier ti deve gasare giocarti ti deve piacere le cose che fa deve essere figo eccetera eccetera stessa cosa con il gioco scegli il gioco che ti gasa però ci sono le limitazioni che abbiamo detto che sono reali e vanno tenute in considerazione io sono così serioso su questo devi seguire il tuo cuore guarda i gameplay e guarda i grandi match qualunque game ti fa sentir il spark è quello che dovresti esatto Ryan assolutamente sì assolutamente sì assolutamente grazie 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 per quello che state scrivendo su Riot e Project Hell che va a spezzare il discorso che abbiamo fatto e sarà così anche per Granblue Fantasy di Arc System Works a novembre esce Granblue Fantasy non si sa quando nel 2024 uscirà il cosiddetto Project Hell che poi non è il nome definitivo saranno free to play si drizzano le orecchie però tipicamente ovviamente avrai un personaggio il Ryu regalato e due personaggi oltre al Ryu regalato che ruotano e se uno ti piace tu lo compri e in più ci sarà tutta la cosmesi da comprare quella c'è stata già anche in Street Fighter e in tantissimi altri giochi non so quanto ho dato a Dead or Alive per ragioni culturali e questa è una cosa interessante una buona accessibilità in più come sappiamo sì non è molto programmato in questo senso sono d'accordo in più come sappiamo c'è il discorso che me lo sono dimenticato volevo fare un discorso ma me lo sono dimenticato volevo fare un discorso me ne andava a braccetto un bel argomento picchia 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 di qua picchia di là non me lo ricordo più le ragioni culturali no erano tetteculi non era un discorso e comunque il discorso di Tekken sì sì lo giocherò a lancio lo giocherò a lancio potrebbe essere le pronte potrebbe essere potrebbe assolutamente essere potrebbe sì sì però alla fine ti compri la moneta per comprare i personaggi perché difficilmente cioè il punto una cosa interessante è che quando ti appassioni al multiplayer il single player non te ne frega più un cazzo perché è quasi diseducativo a volte giocare contro il computer se è proprio non sai fare neanche le mosse ok ma vuoi solo giocare contro gli umani e quindi non ti metti a fare la campagna e quelle cose che erano mi sembrava l'unica cosa che mi interessava di picchia duro prima e adesso non me ne frega più un cazzo esattamente Steve ma sarà che alla fine secondo me paghi i punti e te li compri che è un modo indiretto per dire che te li compri sarà il Granblue Fantasy sarà free to play perché esiste già Granblue Fantasy una versione precedente che si compra ma a novembre uscirà free to play quindi te lo pigli gratis lo provi e se ti intrippi inizi a spendersi dei soldi molto semplicemente però considerando quanto sarà costoso la settimana prossima dare 70 euro per Mortal Kombat alla fine che poi io darò 70 euro a Mortal Kombat e non avrò un cazzo cioè gli do 70 euro il 19 se gli davo 90 euro no se gli davo 70 euro adesso magari li darò un qualche giorno prima perché se gli do 70 euro prima dell'uscita ho Shang Tsung un personaggio in più se anziché dargli 70 euro gli do 90 euro ho Patriota da The Boys e altri personaggi fighi così Marum capito Soul Calibur io ho l'ultimo su Steam anche perché c'è 2B da Nier Automata non mi prende tanto non mi prende tanto Soul Calibur sì 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 io credo che comunque Wes Lackerton credo che quello che farà Riot lo faranno poi tutti cioè io mi aspetto che Street Fighter 7 sia un gioco alla Gran Blue Fantasy e scusatemi alla Project Tell cioè un gioco fatto per rimanere fatto per rimanere quello loro sicuramente faranno così come con un League of Legends qualunque diciamo e secondo me è anche giusto a lì te ne fai un altro se ne vuoi fare un altro sì ma quei giochi rischiano di essere una mezza porcata e a volte però magari vuoi usare Sub Zero o Sub Zero scusatemi e toh giochi e sti cazzi io non so non me ne intendo non so quanto poi Soul Calibur sia così meraviglioso veramente per un pro forse non così tanto Virtua Fighter non ci ho mai giocato conosco la storia io Suzuki eccetera ma non ho mai giocato Virtua Fighter ho presente ma non ci ho mai giocato Virtua Fighter è uno dei pochi picchiaduro che non ho neanche mai comprato io non ho mai posseduto un Virtua Fighter mentre invece di tutti gli altri ne ho comprati una marea soprattutto su Steam li ho praticamente tutti i picchiaduro che sono su Steam ma anche in passato le ho sempre comprati sul Playstation Store ne ho comprati una marea c'avevo anche quello Street Fighter in alta definizione ma con le animazioni vecchie Super Street Fighter HD sti cazzi sempre giocati male va bene andiamo Chase that spark will be what fuels you when things get hard I love martial arts cinema and pro wrestling so for me the game that grabbed my attention was Tekken the pace of animation is a bit slower than this stuff in 2D fighters like Street Fighter or Guilty Gear so it was kind of like watching a choreographed fight scene from the movies in Rasslin I love before I understood mid-low mix-ups and frame data I understood that King did a sick running powerbomb and I loved to see it you gotta find your access point you like anime? you like nasty gore? you like ponies? get it but while you're following your heart you do need to pay attention to one annoying wrinkle because of the old COVID you're mostly going to be playing online and not all games have great netplay in games that use delay-based netcode response times can be sluggish the good news is that if you're new you probably won't know what you're missing out on until you taste that crisp offline stuff if you know that you're mostly going to be playing online consider choosing a game with rollback netcode rollback is an ingenious netplay solution that pretty much eliminates the sluggishness inherent to online sta diventando lo standard fighting games if you want a cool explainer on how it works check out this video by corea gaming here are some games with pretty good netcode if you're not sure if a game has rollback just google it and you'll either find a bunch of blog posts like punch kicker adds rollback or a bunch of reddit threads like how come punch kicker doesn't have rollback another common question is what do i need to start playing fighting games and the good news is if you play other types of games you're good to go esatto steve infatti lui l'ha messo tra quelli con un buon netcode ma io so proprio che storicamente ha un netcode di merda dragon ball z e dragon ball fighter you need a console or pc and a controller and that's it also a good internet connection more on that later you might think you need a big fancy fight stick but there's really no direct correlation between performance and equipment lots of the best players in the world grew up using readily available console controllers and still absolutely kill with them sì 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 ovviamente sì ci sono gente che usa l'arcade stick gente che usa il controller il fatto che non esiste una correlazione con la performance però viene un pochino a cadere con i i fight box come cazzo hitbox eccetera perché lì esiste una correlazione nel senso che non c'è il movimento della leva non c'è la croce direzionale che comunque ha i suoi diciamo delay non è delay il suo tempo per passare da una cosa all'altra sono tasti serve come usare la tastiera e lì ho fatto il suono tra l'altro era Liu Kang comunque sì puoi vincere il campionato dei campionati dei campionati con un controller della playstation se vuoi lo fai una cosa che dice però giustamente non so se finiremo mai questi video ma ci serve come spunto una cosa che dice giustamente Max e lo dicono in tanti è la resistenza tipicamente il fight stick arcade quello che è è un bello gettone cazzuto fatto per durare tanto i controller si spaccano si spaccano io pensate che all'epoca del Super Nintendo spaccai l'unico che ho spaccato a parte il Game Boy spaccai il tasto R perché era il calcio duro dei vari personaggi di uno dei controller che avevo del Super Nintendo a forza di giocare e giocando adesso con il controller Saturn quello del 8-bit Do è bello integro mi piace funziona benissimo mi piace molto però proprio ogni tanto penso e questo prima o poi lo spacco perché c'è una una forza diversa spaccai il Game Boy con un pugno giocando a NBA Live 96 perché io avevo Orlando giocavo contro Philadelphia stavo perdendo non era possibile perdere perché Orlando è la scuola più forte Philadelphia è la scuola più debole mi incazzai tirai un pugno e gli feci sanguinare i cristalli liquidi me lo ricordo ancora aneddoto che ho già raccontato in mille live comunque controllo è totalmente transferrable c'è solo un periodo di recalibrazione dove hai bisogno di sviluppare un nuovo memoria di muscolare con l'altro se hai i risultati e l'inclinazione i fight sticks possono essere molto divertenti sono tactile e hefti e e fanno buoni ruoli quindi parliamo di la maggior parte dei stick che trovi sono ball top square gate cioè il joystick si muove in una square frame e fa facile io sono da questa immagine che vediamo a schermo ho perso una ciabatta e da questa immagine che vediamo a schermo io sono molto affascinato da questo da quello che fa la mano destra mi affascina moltissimo ma avendo vissuto l'epoca delle sale a giochi io ho sempre odiato sempre odiato lo stick io lo odio sto cosa e quindi mi affascina questo ma qui vorrei dei pulsanti quindi un fight box però sti cazzi alla fine il polleggio di stare stravaccato col controller giocare con la tastiera premo mille tasti sbagliati poi mi sembra poi con la tastiera io qui do le direzioni con le croci direzionali e qui uso i pugni e i calci quindi sono incasinato comunque comunque il punto debole grazie mille Scodella grazie mille del prime il punto debole oggettivo fisico dei fight stick arcade stick eccetera è proprio qui nel movimento che deve fare la leva questi sono proprio bellini eh ciac 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 un'altra più comunità configurazione è il BAT TOP K lever questi non hanno un gate e usano un grommetto per tornare alla posizione il risultato è che sono un po' spongi però devo dire ecco bravissimo sono gli hitbox devo dire che quando vedo uno che a rialzo fa la ultra critical art quindi ha fatto un doppio un doppio aduken in una frazione secondo capisco che con la leva la fai è più facile secondo me che con la croce direzionale però si fa anche ovviamente c'è gente che lo fa quindi si fa e lo so Umberto ma io ho sempre fatto diverso ho sempre fatto diverso o perché sono mancino o perché sono stronzo ho sempre usato negli emulatori ma non nel picchiaduro nel qualunque gioco ho sempre usato le freccette per muovermi e ASD ZXC per saltare o qualunque cosa fosse e qui invece vedete l'hitbox o fightbox perché c'è un'altra marca che li fa uguali e costano meno ed è interessante perché il pulsantone rosso in basso è il salto e lo puoi fare con entrambi i pollici e queste sono le direzioni e questo è l'abbassarsi e sentivo dire leggevo che il pulsantone rosso come salto serve anche a non spammare salti come sapete è una cosa che fanno i puzzoidi come me però ti ci devi abituare cioè pigli una roba del genere e ti ci devi abituare cioè non è che lo pigli e fai delle buzz anzi appena lo compri e passa una roba fai peggio inizi a perdere partite che prima vincevi poi un pochino alla volta serve proprio perché comunque sulle tastiere spesso i giocatori delle tastiere hanno il salto sullo spazio sul pulsante space sulla tastiera è peso abituarsi è peso abituarsi ma questo video è vecchio c'è un buon cosigno quello che vuoi fare è solo deniare il piacere di giocare e di essere meglio ma parliamo di una reale sede internet senza ho sto cazzo di NordVPN ragazzi ma di madonna se la connessione con l'opponente non è stessa non è semplicemente non è un buon tempo non a caso due o tre settimane fa ho preso quindici metri di cavo Ethernet e l'ho fatto fare il giro della madonna perché ci vuole ci sta anime ma ci sta anche da dire che Street Fighter in particolare essendo un picchiaduro a sei tasti io ho preso quello del Saturn che non è del Saturn questo qua per avere i sei tasti davanti perché quello PlayStation che cazzo cioè capito se gioco un picchiaduro a Senkei o ad altri probabilmente anche Tekken e Mortal Kombat immagino siano pensati per la PlayStation o comunque penso vadano bene non me ne frega niente avere sei tasti frontali qui a Street Fighter me ne frega e come e quindi poi per carità puoi diventare campione del mondo col pad PlayStation a Street Fighter non c'è nessun dubbio su questo la cosa che mi ruga di più del controller questo è quello dell'Xbox è questo questa cosa infatti in alcuni pad appositi ce ne ho anche uno sono cliccosi il tasto dorsale deve essere clic questo c'ha una corsa è un cazzo di incubo cioè tu non hai la percezione esatta del momento in cui entra questa corsa è fantastica per un gioco di guida ok per accelerare frenare ma per un picchiaduro cioè io non posso fare un calcio qui è assurdo cioè ci metto boh ci metto il drive in boh non lo so cioè dovrei avere tutto cliccoso anche sopra e ci sono quelli che ce l'hanno questa cosa secondo me andiamo avanti andiamo avanti andiamo avanti andiamo avanti andiamo avanti andiamo avanti so our common spaces weren't a constant tripping hazard this might involve some negotiation and compromise but it's absolutely worth it questa parte è bella dai cazzo so who are some good characters for new fighting game players the answer regardless of the game is whoever you think looks cool once again your enthusiasm is going to be the emotional well from which you draw the motivation to grind out combos and do the difficult work of learning and you don't always have to pick the Ryu of the game to learn the fundamentals for example when I started Tekken 7 I played king because I liked that he was a huge kitty cat man who did all my favorite wrestling moves he's a great character but he also has a big bloated moveset that he's picked up over vedete come sono le mosse di Tekken vedete come sono le mosse di Tekken non si basano sui quarti di luna le mezzelune eccetera sono delle grandi sequenze sarò veramente curioso quando sarà il momento di giocare a Tekken sono una gran sequenza di input sono pesa? bell'anime sono pesa sono tantine tra l'altro sono tantine avranno tutte un senso immagino che peso Tekken è combo ah si per forza e Tekken devi palleggiare con l'avversario e chi palleggia di più vince quindi non te devi fermare non si deve fermare la tua stringa porca puttana chissà se mi piacerà secondo me sì secondo me mi piacerà e vedete che è molto comodo è tutto fatto con i quattro tastini frontali della playstation quindi va capito benissimo ma me l'han detto tutti che Tekken è una bella bestia ma rimarrò comunque sempre street fighter based c'è una cosa che vi voglio dire che street fighter 6 non si interrompe penso che sia una tipologia di gioco che una tipologia di picchiaduro che fa molto per me Tekken lo giocherò perché lo voglio giocare mi incuriosisce eccetera ma è un gioco che esteticamente mi fa schifo e l'ho sempre odiato poi sono convinto che sono gioco della madonna e arriverò a capirlo forse giocare bene no ma a capire che è bello e mi piacerà e voglio per mia veramente cultura personale ma per me il picchiaduro è grounded è con lottatori con un qualche realismo cioè per me il picchiaduro ideale ripeto è king of fighters quindi street fighter ci va abbastanza vicino troppo anime tipo dragon ball ci ho giocato sempre male contro il computer a cazzo di cane è affascinato divertente però in realtà non me ne frega un cazzo io ho giocato blaze blu e per me è un po' troppo flashy un po' troppo casinaro non sono da marvel vs capcom infatti non so poi project l quanto mi sconfinfererà poi anche lì si tratta di imparare però per me street fighter 6 è un gioco per i prossimi anni non per i prossimi mesi ovviamente lo vedo poi è street fighter comunque tu sai che è il grande il grande picchiadurone tradizionale questo lo devo dire però la curiosità la curiosità di capire cioè Tekken è un gioco io devo capire con gli amici giocando tutti quanti a tirare pugni a caso più o meno a caso vedi che una cosa funziona la ripeti fine io non ho mai capito il fascino di Tekken ma so benissimo che è un gioco della madonna e per me proprio sarà un gioco da scoprire so che però a proposito di schiacci sempre so che c'è grande scetticismo verso il prossimo Tekken per quello che hanno mostrato quindi poi scopriremo di che cosa si tratterà credo sarà abbastanza diverso da Tekken 7 e poi certo è un gioco tridimensionale quindi è tutta un'altra cosa ogni tasto è un arto lo spensa te lo ho capito lo imparo adesso ma pensate ma pensate andrei ma in realtà capire Tekken uguale a capire Battiato è lo stesso percorso boh ok staremo a vedere staremo a vedere insomma mancano ancora diversi mesi esce a gennaio vedremo di mezzo ci sarà anche Granblue Fantasy che è considerato che è free to play per i casual nessuno di quei giochi è per i casual a meno che veramente non li spolpino non li distruggano però ha i controlli modern che poi quando parliamo di controlli modern in realtà diciamo il futuro sono i controlli modern in realtà non è vero cioè il futuro sicuramente secondo me saranno sempre di più l'opzione di avere le super che si fanno con un tasto ma i controlli modern di Street Fighter e anche qualcosa in King of Fighters 15 hanno le autocombo le autocombo sono un'altra cosa e non so quanto le autocombo siano il futuro per questo perché sono molto limitanti in realtà apparentemente fighe ma in realtà limitanti secondo me una cosa importante per quello io uso i classici in Street Fighter è imparare le cancel che sono la cosa più difficile di questi cazzi di giochi è cancellare una mossa in un'altra che è un concetto che io non sapevo neanche che esistesse e ora capisco e oltre al buffer è tutto lì e secondo me quella cosa lì sarà sempre importante saperla fare ok le autocombo cioè te le fai semplicemente premendo un tasto possono l'autocombo la super con un tasto in realtà chi se ne frega non è un problema tanto anche il pugno con un tasto è un'assurdità premere un tasto un tizio tira un pugno premere un tasto un tizio fa una duca non ha nessuna importanza anche per fare un aduco non sciorrico è una stronzata il punto è cancellare una mossa in un'altra e i tempi di come cancellare le mosse a seconda di che mosse sono c'è un video proprio di schiacci sulle tempistiche molto musicale come cosa è difficilissimo è una cosa difficile è una montagna è una cosa di una difficoltà se non l'hai mai fatto mostruosa io faccio una fatica bestiale cioè in allenamento riesco a farlo magari ho fatto due volte di fare quel cazzo di calcio medio tazumaki senpukiaku ma quella è la cosa più difficile dei pikiadu oltre a conoscere tutto le distanze per carità ma manualmente cancellare una mossa in un'altra per uno che sa giocare una stronzata per me è una cosa mi sembra arabo ma arabo con le mani ok è assurdo veramente assurdo quindi per questo io sconsiglio il modern perché ti ti disincentiva ad imparare a cancellare le mosse ma per carità puoi sempre farlo però la combo la fai così che te frega di cancellare un calcio medio è quando ok e io non sono convinto che il cancellare mosse in mosse sparirà dai picchiaduro magari avremo le super automatic questo è probabile ma in realtà è un frega cazzi imparare a cancellare gli input negli altri input è quello il muro fisico poi c'è tutto il muro mentale che è tutta un'altra cosa e tutto si fa attraverso l'esperienza ma il muro fisico è cancellare una mossa in un'altra che mi rendo conto che sia l'abc ma per me è anche adesso per me è assurdo veramente assurdo ma che poi fare le combo ti dà adesso non so anima a che cosa ti riferivi esatto ma sono sicuro che ti riferivi al discorso di farle con le tue mani fare le combo lo vedevo in King of Fighters 15 fai le combo così cioè le auto combo poi lì ci sono anche le manual combo finché vuoi ovviamente però fare le combo automatiche non ti dà nessun gusto riesci a fare due così la prima volta che ho sbattuto il tizio contro il muro gli ho fatto lo shoryuken che fai il calcino dorato come cazzo si chiama e ti torna il tizio dal muro e gli puoi fare uno shoryuken ti dà un piacere fisico che è incredibile perché hai imparato una cosa una cosina difficilina che poi è una stronzata però è figo è proprio bello inizia a vedere che dietro a questa cosa che hai sempre visto questi due omarini che si menano dietro ci sono dei tempi che sono poi i frame allucinante perché arrivi veramente a pensare ai frame io no ma dopo un po' dovrai pensare ai frame questa cosa mi mette in vantaggio mi mette in svantaggio perché in realtà fare calcio duro basso è una merda anche se ai livelli bassi continuo a sgambettare la gente perché calcio duro basso mi mette in svantaggio di brutto se tu me lo pari sono fottuto tanto più che mi ci puoi infilare una combo se sei un figo è molto bello tutto questo esatto esatto anima esattamente quella è una soddisfazione incredibile incredibile sì 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 ma è così Craunless è assolutamente così sono d'accordo ed è un piacere è un grande piacere anche se da domani in poi tutti i giochi saranno solo autocombo a parte che per questioni fisiche le combo automatiche saranno soltanto alcune i comandi modern in Street Fighter 6 le autocombo di King of Fighters 15 ci sono delle autocombo ma sono solo alcune ovviamente cioè a un certo punto arrivi a un punto che quelle autocombo non sono più un cazzo la combo è la cosa che separa ok e che dà gusto dà soddisfazione riuscire a farla sotto pressione riuscire a mettere dentro una combo io sto parlando di una combo di due cose ok di due mosse ok una combo da due in un combattimento mi sembra di avere dipinto la gioconda capito pensate a cosa è quello che vedevamo prima quello che ha fatto Daigo loooow uuuuh la cosa differente from most of the roster but I liked him I liked the way his moves looked I liked his vibe so I had the motivation to put in the work later when I picked up Guilty Gear Strive I went with Sol Badguy because he's kind of the Ryu of that game and he was really strong at the time I thought that having a high tier character who exemplified the fundamentals of that series would help me learn so I tried for a while and then I fell off e mi dicevo che magari Guilty Gear non era per me un po' di mese dopo mi arrivo e ho provato il carattere che ho davvero voglia di giocare all'interno e tutto clicca mi piace guardare al mio piccolo ragazzo mi piaceva i suoi giovani e i suoi bambini e mi piace il bambino quindi io ho gusti molto diversi da lui ma a questo gli piacciono i zanghi della situazione lo guardavamo prima giustissimo e poi se un gioco è fatto bene e secondo me in questo Street Fighter 6 è fatto bene tu puoi prendere zanghi puoi prendere quella con i bolas nelle mani che lo faceva vedere un video di recente Brian F che la trovi nei top tier che doveva essere il personaggio più debole un gioco così fatto bene puoi prendere chiunque se ti smazzi e se ti piace puoi fare quello che ti pare quindi certo Ken e JP sono più forti però chi se ne frega comunque se hai zanghi abbiamo visto il tizio famoso lì come cazzo si chiama se ti piace se ti piace ti diverti sta percependo che c'è della attenzione e quindi mi propina se ti piace Like what you're feeling, hop onto YouTube and search for some character guides. This is a really cool thing about fighting games. They are complicated. There are hurdles to overcome. But that complexity is also what makes them so satisfying and fun to play. And people want other people to share in that fun, so they'll put in hours and hours and hours of work to make wonderful guides. Like and subscribe. Character guides are great. Looking at your move list in a game is helpful, but it doesn't instruct you on the overall strategy for that character. A good guide will highlight the most important tools your character has and how to use those tools. Vedete quanto è stratificato? C'è il discorso della scelta, del personaggio con cui clicchi. Prima di tutto conoscere le cosiddette normal, le mosse base. Sembra niente, ma è fondamentale. E poi iniziare con le mosse un pochino più complicate, comade, eccetera. E poi come si fanno le mosse più complicate? E questo è niente. Perché poi che strategia ha questo personaggio? Come deve funzionare questo personaggio? Qualche guida, qualche cosa, ma poi lo devi vedere come si incastra con gli altri personaggi. E poi la cosa più assurda, ma che in realtà ce lo vedi anche quando sei un noob, non devi essere Daigo per capirlo, è che poi c'è l'avversario. C'è comunque lo scontro di cervelli con cui dicevamo prima. C'è il tuo personaggio funziona bene facendo certe cose, l'altro personaggio funziona bene facendo certe cose, questo ha Kemi, tu hai Ryu, questo funziona così, quella funziona così, eccetera. Ma poi c'è come gioca uno, cioè tu puoi trovare il Ken che gioca difensivo, e non è detto che sia una stronzata, assolutamente no. E tu ti devi adattare, devi capire. E poi la cosa allucinante è un round, cioè quello che diceva Phoenix, non puoi usare due volte la stessa mossa contro di me, contro l'intelligenza artificiale stai sempre cercando di romperla, stai sempre cercando quella cosa in cui casca facilmente. Poi, ok. Contro l'avversario umano magari un round è deciso da alcune cose che hanno funzionato, ma tu sai che il round dopo quelle cose lì hanno finito di funzionare, e te ne devi inventare delle altre, e lui se ne inventerà delle altre. Porca miseria, è bello, bellissimo. Tanti, tanti strati, è proprio una goduria, una vera goduria. Quando si guarda un uomo, non aspettate di internalizzare tutto in una volta. Chiaro, chiaro. E' un tonno di informazioni, e non è proprio realistico. Ah beh, considera Andrei che è un genere che si è molto evoluto nel corso del tempo, e oggi usano i giocatori per sviluppare. C'era di recente, proprio sul canale di Schiacci, lui parlava di, non so che personaggio di quale gioco, scusate, non mi ricordo, che era stato, credo fosse Project L, ed era il tizio con la spada, quello azzurro, il samurai con la spada, e diceva che era stato sviluppato da giocatore X, e lui vedeva tutte le citazioni che lui aveva messo, eccetera, eccetera. Cioè, queste case chiamano i pro player per aiutarle a sviluppare. Quindi ci sono i pro player che lavorano all'interno, e tu in realtà non li vedi mai perché magari non hanno una presenza social, o comunque non palesano quello che stanno facendo. Quindi lavorano dietro le quinte, lavorano all'interno, e aiutano i programmatori a sviluppare i giochi. E poi ci sono i pro player e i influencer, che sono in conflitto di interessi, vengono chiamati dalle case per provare i giochi in anteprima, come hanno fatto da poco con Project L, eccetera, ovviamente. Ma sono anche consulenti, però, nel senso che sono gentilmente pregati di fare promozione, visti gli incredibili vantaggi che gli dava i prodotti in anteprima, poter giocare prima degli altri, eccetera. Se siamo capiti, solito discorso. E al tempo stesso, Vez, mi dici com'è il gioco? Mi fai delle crimini? Tu, Justin Wong, tu, Maximilian Dude, tu, Diaphone, tu... Giocate un po' tra di voi e poi parliamo per ore e ore, facciamo un bel briefing, raccontate un po' com'è, e diteci cosa dobbiamo migliorare, perché comunque sono dei feedback importanti. Perché magari... Tra l'altro è interessante questa cosa, perché il pro player influencer, ad esempio, non so, un Justin Wong è molto più forte di Maximilian Dude, faccio per dire. Però magari Maximilian Dude è molto più influencer, è molto più pop, ma a me interessa moltissimo il suo parere, se sono uno sviluppatore, perché lui magari sa meglio che cos'è il gusto di un pubblico più generalista, per quanto relativamente generalista, essendo lui comunque un pro. E quindi il suo parere è estremamente importante. Mi interessa l'infognato, che vuole le cose super tecniche, eccetera, eccetera, ma mi interessa anche che mi arrivi un giocatore che ha un rapporto forte con il pubblico, che mi dica, guarda, se tu metti questa cosa qui, ci giochiamo in due. Figo, ma ci giochiamo io e te. Pensaci. Anche quello è un feedback molto importante. Bello, no? Esatto. Esatto. Oh, vi ricordo che dopo alle 13.30 esce il video girato in Giappone su Weza Channel, che mi scordo di dirlo. Quindi, alle 13.30 andate su Weza Channel, mettete il like, lasciate il commento, eccetera. Visto che il canale dorme da 7 minuti. Però è figo, comunque è figa sta cosa, e lo capisco, è proprio bello. Il tempo. Adesso noi non riusciremo a vedere i video di Max, ma li vediamo un'altra volta. Tanto voglio fare delle altre di live, un po' spot quando capita di poter parlare di queste cose. Il tempo. Quando Max parla di Justin Wong, e parla di come si è formato Justin Wong, e dice, non so in che cazzo di location nel sud-est asiatico, forse a Tokyo o in Thailand, mi ricordo, dice, questo bar o questa sala giochi famosissima, X, non mi ricordo, dice Max, ma voi pensate a Justin Wong che sia nato, imparato. Ma questo ci ha vissuto, ci ha passato tutti i giorni, tutte le ore della sua vita per degli anni. Questo non si bypassa. Questo non si bypassa. La cosiddetta memoria muscolare, che in realtà non è tale, e comunque è tale in qualunque esperienza della vita, non si bypassa. Cioè niente bypassa l'esperienza. Poi a pari esperienza vediamo chi è più bravo. Ma è quasi sempre, io sono più esperto di te, questo vale per Michael Jordan, vale per Umberto Eco. Umberto Eco leggeva i libri a tavola, mentre mangiava c'aveva il libro di fianco al piatto. Michael Jordan ha tirato più tiri a canestro di chiunque altro, forse Lebroni ha tirato più di lui, ok? Quindi niente bypassa il tempo investito. Questo può essere un problema. Infatti io sono una persona che non ha nessuna ambizione, perché so che non riuscirò a mettere il tempo che sarebbe necessario. metterò quello che riesco e andranno bene i risultati che arrivano. Questa è una cosa, però, non deve, secondo me, se ti piace non è una cosa negativa, è una cosa positiva. Cioè è figo che ci voglia tutto quel tempo, perché vuol dire che se ti piace è un bel tempo, è un tempo ben speso. Non giochi per vincere, secondo me, io non la vedo così, non giochi per vincere, giochi per allenarti, ok? È un allenamento che non finisce mai, è una cosa bella in sé. È il gusto che ti dà. Se lo fai per il risultato, rischi di cercare la scorciatoia, non ha senso. Poi se vinci va bene, ma tanto impari solo quando perdi. Non è vero, quello che ho appena detto non è vero, naturalmente, il vincere e perdere, il perdere non è un criterio sufficiente. Nel senso che tu puoi vincere un round o un match, ma avere fatto degli errori ed essere successo. Impari quando sbagli, è più giusto dire. Poi vincere e perdere è una somma, e dipende dall'avversario, e bla bla. ... che gli uccidori appena inconsequenziali e per gli esperti, insignificanti. Ma questo non significa che non sia un'accomplimento. Buon lavoro. Ma il nale e i combi solo accanto per un piccolo, piccolo percentaggio di quello che va iniziare a giocare un match. E l'unica modo per iniziare a figure that out, è di fight. Fight! Non dimentichiamoci, certo, certo, non dimentichiamoci il motto di Sabaku, fight, che se non viene dai picchiaduro non so da dove venga. Cioè, è fantastico. Bella. Fight. E per questo mi piace, devo dire la verità, per questo mi piace Ryu. Che ha tutte quelle sue frasette, tipo, la verità è nel cuore della lotta, tipo, continuo a combattere. È molto stoico, è questo lottatore stoico, che come nel famoso finale di Street Fighter 2, quando vince se ne va. Perché non ha nessuna importanza per lui, ok? Ma non è macchiettizzato alla Goku, andiamo a cercare il prossimo anniversario più forte. No, Ryu è in lotta con se stesso, è una sfida personale. Sta cercando qualcosa, ma tutto quello che trova è la lotta. È una cosa molto affascinante, molto bella, secondo me. Ha una sua mistica, Ryu, e poi anche il bumerone, daddy, wholesome, un po' così. A volte un po' cringe, ma chi se ne frega. È un personaggio affascinante, lo uso volentieri il buon Ryu, come diceva l'angry videogame nerd. Fight a human, ovviamente. Settare qui a questa scena per la prima volta può essere strano. Magari non per te, magari sei un tipo di tipo di f***o. No, 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 invece questa cosa di cui parlerà adesso, lo sto interrompendo a ogni parola, tutto ciò che cerca è la balotta. Questa cosa di cui parlerà adesso, ne abbiamo già parlato, è veramente importantissima. Cioè tu hai paura, io ho paura di giocare online. Hai paura perché hai paura della brutta figura, hai paura di fare pena, hai paura di essere ridicolo, hai paura di perdere, hai paura... Sono tutte queste cose per cui tu hai bisogno di giocare tantissimo, ma sei terrorizzato dall'idea di giocare. È una cosa molto umana, perché non ti senti pronto, non ti senti pronto, ma per essere pronto devi andare a perdere, devi perdere, devi fare infatti uno dei video di cui losing hearts, ma non necessariamente deve fare. Prima o poi lo dobbiamo vedere questo video, già due volte che lo metto a schermo. devi perdere, devi perdere, devi perdere, devi perdere, devi perdere, devi perdere, devi perdere. Contro un essere umano come te, che starà ridendo di quanto fai schifo, penserà che sei ridicolo, penserà che fai pena, penserà che sei proprio un noob. Devi perdere, devi perdere, devi perdere, devi perdere. Per me è un percorso molto bello. È perché dopo un po' ogni tanto qualcosina entra, una piccola cosa. Non sei un sasso, impari. Cioè perdi ma impari. Perdi meglio. Continui a perdere ma perdi meglio, perché magari sei un po' salito. E perdi meglio. E perdi un pochino meglio di prima. E hai perso un po' meglio della volta prima. E questa è la cosa più bella. A parte che c'è il tizio dell'arrotino e dell'ombrellaio per strada, non sto scherzando, è arrivato l'arrotino, non sto scherzando. Lo impari. La rabbia la gestisci rendendola più frequente. Se una sconfitta, ma in generale un imprevisto nella vita, questo è praticamente taleb, è tanto più urticante e dolorosa, ti farà arrivare di più, quanto più è rara. Quindi è tanto più grande e più importante. Se è frequente perde importanza perché è una tramille e non fa nessuna differenza. E quindi la frequenza abbassa l'impatto del dolore, se così vogliamo dire. E come si impara a gestire la rabbia? Perdendo, perdendo, perdendo. È l'esperienza. La risposta è sempre l'esperienza. E quindi fail fast. Sbaglia in fretta. Sbaglia tanto. Sbaglia spesso. Spesso forse, più che fast. Sbaglia velocemente. Sbaglia spesso. Aumenta la frequenza degli errori per imparare di più e diminuire l'impatto emotivo dei singoli errori. Questa è proprio bene. Con il videogioco, che ovviamente è un sistema codificato e quindi in realtà non opaco, come sono gli sport, tutto questo è molto facile. Non è facile per un cazzo, ci riescono in pochissimi. Però è molto più facile che nella vita, dove le cose sono sempre più ambigue, molto meno definibili. La vita rispetto al videogioco è come se tu non sapessi mai qual è la sequenza di tasti che farà uscire la Duken. Quella è la vita. Nel videogioco è sempre la stessa cosa che fa la Duken. Ma un po' meglio. Ma per me, non sapere quello che succederebbe quando ho avuto il botto di matchmake era nerve-wracking. Un altro personale reale che sta a vedere te fiumi con i vostri bottoni e lasciare i vostri combo e esqueci di bloco in real-time. Ma è ok. È tutto bene. È così intimidante come quella connessione di humana è anche assolutamente core della gioia di combattere. Ora, non ho detto che non c'è valore a combattere la CPU. È una buona forma di di keep learning your own character's moveset and develop muscle memory. It can also help you familiarize yourself with the capabilities of other characters. You can learn that Sagat has this big kick and this uppercut and, whoa, two different fireballs! But once you've mentally logged that stuff, there's not much more it can do to prepare you for fighting a real person. Despite advances in fighting game AI, the CPU won't string those moves together like a human opponent, and fighting a robot is just not as fun. So, take a deep breath, set your expectations low and hit that matchmaking button or one of those matchmaking buttons. Most fighting games are going to have a couple of options. So, let's go over this. Ranked matchmaking tracks your performance and skill using a bunch of... Sì, 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 sì. DJ, DJ è allucinante, ma lui giustamente lo mette tra i personaggi più difficili da usare. È un personaggio assurdo, DJ. Veramente assurdo. Ha fatto proprio un bellissimo personaggio, secondo me. Non lo so, Andrei, non lo so. Non lo so. Chiaro, chiaro. Chiaro, chiaro. Chiaro, chiaro. Chiaro, chiaro. Literally move towards the top of a tower. The obvious pro here is that as a new player, you should be paired up with other new players. So you'll actually have a chance of winning. And winning feels good. The con is that even when you're fighting for fake online points, that sense that you're being evaluated changes everything. Getting bumped down a level after a losing streak can be really demoralizing. It also changes the behavior of your opponents. Still haven't transcended humanity, huh? You lack this online. Separating your self-worth from your performance can be tough and it makes some people act really silly. It can cause people to get obsessive about their win rates. They might duck you in matchmaking if you play a character that they have a hard time against. They might bail out of a set the moment they lose. They might send you nasty messages. Quick tip on this if you're worried about getting shit from toxic players, lock down your message settings ahead of time. Now I know I just listed a lot of cons that make ranked sound like shit in settings ahead of you. Ryu si gode la pace del fatto che non gli si possono mandare i messaggi privati. Time. Now I know I just listed a lot of cons that make ranked sound like shit but it's actually fine. The other option is unranked. Here the match make... Le amichevoli... Diciamo che questo possiamo andare avanti, dai, un pochino. Your opponent is using a technique that keeps blowing you up. You might not have time to run to a website and look up the frame data but in a long set you do have more opportunities to rummage through your toolkit and try to find something that'll solve your problem. And if you find a solution you have the chance to test it out repeatedly and start burning it into your muscle with good fundamentals. And you'll see something that you are very unlikely to see in the beginner ranks. The power of not pressing buttons. When I started playing unranked Tekken I would fight opponents who felt like absolute brick walls. They would just block block punish and whiff punish. Every loss was the result of me overextending. Sì, è vero che nell'amichevole tu hai... tu hai... la possibilità... ti capita nella gente di livelli diversi. E una volta ho incontrato un tizio Diamond mi ha fatto due Perfect e mi ha salutato. Però figo. Cioè, sono comunque riuscito a far durare quei round parecchi secondi. tanto, tanto, tanto e sono stato soddisfatto di questo. Mi ha fatto due Perfect. Oppure ho incontrato dei Gold e io sono Silver 2, no? Ho incontrato dei Gold con Ken e li ho battuti. Oh, beh. Cazzo, figata, no? Però vedi qualcosina di diverso. È vera questa cosa. Using unsafe options. So I tried to emulate their style and gradually I got better. E insomma, dagli esseri umani impari, è questo chiaro. Anyways, both ranked and unranked are valuable. If you stop having fun with one, try the other for it. ma secondo me la cosa veramente importante è e non è facile perché io ci guardo di brutto è emanciparsi e in realtà lo vedi nei super pro. Cioè, sapete un Justin Wong quanto cazzo gliene frega dei suoi punti master? Niente. Emanciparsi dai punti. Sono solo match e non ci dovresti guardare però un'occhiativa la soddisfazione incrementale di quel numerino. Ma vorrei evitare tutta la componente social perché non mi interessa e mi fa un po' perdere tempo sinceramente. E comunque il numerino dovresti trascendere il numerino ma al tempo stesso ti mette pepe al culo e tu con quel pepe al culo devi regolarti. Devi fare i conti con quella paura. È lì che c'è il cuore della battaglia dove incontri Ryu. Ah, ma ci credo, Ani. Ci credo, ci credo, ci credo. Ah, capisco, capisco. Quello è un aspetto molto bello. Quello è un aspetto molto bello, assolutamente sì. Un giorno magari avrò anche una comprensione. Ma sai, con il fatto di fare video e le live, eccetera, devo dire che ho commenti di persone che mi dicono cose interessanti, ad esempio sull'ultimo video di Street Fighter, un po' con la chat, eccetera. Quindi un po' questa componente ce l'ho ed è veramente una figata. Però sì, 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 la componente sociale a un certo punto si deve sbloccare, magari andando a un tornello. Sì, vabbè. Nel giorno di mai, comunque. Sì, nano, qualcosina sì. Però in realtà in Street Fighter ottieni le frasettine, quelle cosine lì. Però in realtà in Street Fighter per le robe veramente cicciose, esatto, sono delle cazzatine, come disse il dottor K, per le robe veramente cicciose devi fare il single player, la campagna open world. Che in realtà dicono che abbia delle belle chicche di lore dei vari personaggi. Però non c'ho voglia di farla, a me frega. Non c'ho voglia. Però lì hai proprio i costumi, quelle robe lì. È un po' più bellina come cosa, però sempre cose ovviamente cosmetiche. esatto, immagino esattamente. Come subì solo Perfect ma rincasai felice verso il tramonto come Ryu. Ci sono anche degli inside jokes per la community italiana, ma pensa a te. Figata. Bello, bello, bello. Vediamo, vediamo, vediamo. Struggle. You lose. You lose. At the end of a fighting game match you win or you lose. There's no teammates to blame for not pulling their weight. There's no XP meter sliding up to reward you for your participation. Adoro. You will beyond a shadow of a doubt. Non c'è la squadra, non c'è la componente RPG. Sei tu che devi livellare. È bellissima, sta cosa è proprio bella. lose a lot. Self doubt and from E non c'è Non è secchio. Cioè non devi memorizzare, capito? Devi fare una cosa in più. Ah, è troppo bello. Frustration can feel overwhelming when you're in the thick of it. But it is all a part of the process of getting better. So here are a few tips for getting through it. Separate your self-worth from your performance. Ci sta, eh, ci sta. I know this is kind of like saying stop being mentally ill but it still needs to be said. You are not your win-loss ratio. Ma c'è un video che purtroppo non sono riuscito a rirecuperare che fa proprio il parallelo fra i picchiaduro e la meditazione. Lo fa in una parte iniziale del video. Ma è verissimo. È verissimo. Cioè quando tu vedi questi super pro ma come ve lo manda Aigo prima, no? Sì, ho appena fatto la sequenza più importante della storia dei videogiochi. Sì, ok. Veramente incredibile. Eh, grazie, ciao. Capito? Cioè io c'ho il cuore che batte, capito? C'ho proprio... Fa vedere Magin. Potrebbe essere. Che pollo! Madonna, madonna, madonna. Incredibile, incredibile che ci sia cascato. Andiamo avanti per piacere. Ho capito. Erano fortissimo e erano membri della tale dei tigri che è soprannome della comunità politica. Ma pensate che figata. Ecco, è così funziona il cervello umano. Dormire ti migliora. Distrarti ti migliora. A un certo punto incontri il muro e lì devi staccare. Ma questo è il cervello. soluzioni che non puoi trovare nel giro del momento. Il tuo corpo è rinforzato i passaggi di neurone per rendere l'execuzione più semplice e migliore. Sparare i giocatori si sentono un po' più come un hobby tradizionale base di potenza come giocatore. C'è un livello base di esercizio e self-direzione che bisogna rinforzare l'esercizio. La cosa della fatica mentale più sei scarso più fai fatica mentale. Io adesso riesco a fare due ore ma avete visto l'altro giorno dopo che ho perso da quella Chun-Li ero crollato. Sono totalmente crollato. All'inizio dopo un match dovevo veramente prendere fiato. Se tu vedi Max gioca sette ore di seguito. Quindi lo sforzo mentale ovviamente è anche proporzionale alla quantità di novità che tu continui ad avere gettate addosso. È come quando impari a guidare. Mi ricordo sempre ho raccontato tante volte e accomuna tutti quanti la prima volta che ho guidato che ho preso la patente sono stata una casa che avevo mal di testa ma mal di testa per la tensione la tensione muscolare eccetera e ora guidi che non ci pensiamo. È la stessa cosa. Quindi anche lì è l'esperienza per il peso e la fatica mentale che ti dà un match. Cioè io adesso devo fare una partita a scacchi e dopo devo ripigliarmi. Forse un giorno non sarà più così. Esattamente deve essere un tempo comunque fecondo. Se ti forzi dopo che sei finito mentalmente non serve a nulla. Lì devi riposare e devi staccare. No, Magin, sì, si immagino anche perché comunque io guardo tanti canali sui picchiadori. Una cosa che aiuta comunque gioco più di due ore a settimana perché ad esempio l'altro giorno dopo la live la sera ho giocato e sono tornato da 6.000 a 6.400 perché mi ero riposato spaccato anche perché ho incontrato solo dei Ken e non so per quale motivo con i Ken vado abbastanza bene. Però c'è anche una cosa molto molto importante e sì funziona con tutto secondo me andrei la cosa molto importante è per me guardare i video cioè se io gioco solo io che faccio schifo contro gente che fa schifo a un certo punto inizio a rimastare nella mia stessa merda se mi vado a vedere un po' di video di gente brava è come se miglioro miglioro perché comunque implementi un po' di quelle robe lì secondo me è molto importante ma lo diceva anche lui è molto importante guardare la gente brava che gioca al gioco che ti interessa perché impari molto banalmente impari anche non giocando poi non è che pigli in mano il controller e sei diventato Justin Wong no però e poi è importantissimo ma forse lo dirà anche lui riguardare io mi riguardo le live dei picchiaduro abbastanza perché voglio rivedere l'orrore lo schifo ma anche quelle due cosiri che dicono beh 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 capito e vedere cosa hanno fatto i miei avversari eccetera ti fai la review da solo delle tue partite è importante secondo me nano no nel senso di per me non bisogna legare il discorso dell'attività autotelica di cui abbiamo parlato non lo devi legare ai risultati in realtà non gioco neanche per diventare bravo gioco per imparare non è la stessa cosa mi piace il processo di apprendimento è un bellissimo passatempo mi dà gusto perché il mio cervello si muove non ho un obiettivo per me per la mia filosofia è così io non ho nessun obiettivo a street fighter o a qualunque altra cosa che cerco come col giapponese io non ho nessun obiettivo non ho neanche l'obiettivo di imparare il giapponese l'obiettivo è imparare il processo dell'apprendimento ma non voglio diventare un parlante giapponese non me ne frega nulla non ho nessun target quindi non ho nessuna necessità di passarci infinite ore o pochissime quando ne voglio lo faccio è il piacere del processo il risultato non mi appartiene e genuinamente non mi interessa anzi riesco a distinguere un'attività che per me è autotelica cioè ha in se stessa la sua finalità quando vedo che non mi interessa il risultato allora mi piace e infatti è così sì diventare gold piuttosto che silver ma in realtà non mi interessa è il piacere di incamerare piccole cosine nuove quindi non dico ragionamenti che facevo anch'io di brutto e che mi tenevano lontani da un sacco di cose non faccio il ragionamento del tipo eh vabbè ma per diventare bravo a suonare il basso come Marcus io smisi di suonare il basso perché il mio maestro mi fece ascoltare Marcus Miller e Victor Wooten e pensai ma tra me Marcus Miller e Victor Wooten c'è una tale distanza che io smetto non ne ho mica voglia ma chi se ne frega non è quello io non non voglio fare una cosa per diventare bravissimo non me ne importa nulla anche perché così non diventerò mai bravissimo mi piace farla mi piace il processo di apprendimento legato a quella particolare attività magari per ragioni mio biografiche picchiaduro sono stati un mito della mia infanzia quindi probabilmente mi piacciono anche per quello ma non c'è altro se no se pensi quante ore separano me da Justin Wong non ce ne sono abbastanza nel resto della mia io nel resto della mia vita non avrò la possibilità di dedicare abbastanza ore da diventare bravo come Justin Wong e forse poi invecchiando non ce la farei neanche ma non è questo il punto mi piace in sé se no non inizi mai nulla perché comunque essere bravi bravissimi perché uno si prende sempre i modelli iperbolici essere bravissimi a qualsiasi cosa è una tale montagna di ore che non potrai mai decidere di dedicargliele perché è una decisione che non puoi neanche prendere su due piedi questo secondo me è importante se no non fai nulla io quante cose ho mollato perché ah cazzo però il livello super bravo è inarrivabile che cazzata chi se ne frega la dopamina aiuta o frena secondo me sicuramente aiuta la dopamina è la cosa che ci fa muovere quindi aiuta per definizione però la dopamina non la devi far venire solo dai risultati certamente il risultato ti dà un rilascio di dopamina ma la dopamina deve venire dall'apprendimento cioè se io vinco ma è già così ma è così per tutti perché se io vinco ma l'avversario era un puzzone e io ho giocato da schifo come spesso capita io non ho nessuna soddisfazione se io perdo ma mi sono entrate le due combo simpatiche sono riuscito a non spammare troppo il drive impact non ho saltato involontariamente ho imparato che se faccio passettino avanti a Duken esce un cazzo di Shoryuken porca troia gli Shoryuken involontari perché volevo avanzare e fare una Duken se io perdo però ho fatto queste tre cosine dopamina dopamina sì il tizio che ho incontrato Diamond che mi ha fatto i due perfect ho avuto un sacco di dopamina perché ho resistito un casino ok quindi in realtà la dopamina è un'autovalutazione che tu fai su quello che stai imparando il risultato ma chi se ne frega di vincere cosa se ne frega di vincere o di perdere ho vinto ho perso come diceva qui il buon Kobe Bryant diceva vinci figata il giorno dopo si ricomincia a lavorare perdi schifo il giorno dopo si ricomincia a lavorare non cambia niente non cambia assolutamente niente è per questo che devi scegliere con grande attenzione i processi che ti interessano perché tanto quello farai come il buon Ray Allen dopo aver vinto il titolo con i Miami Heat in cui mise il tiro più importante della storia delle finali vinse questo titolo e il giorno dopo disse ma io non so ok abbiamo vinto il titolo ma io non so che cazzo fare boh vado in palestra e mi alleno non sapevo cosa fare il giorno dopo aver vinto il super titolo finale definitivo sono andato in palestra ad allenarmi che cazzo dovevo fare quello è figo e capite che è una filosofia che sembra la filosofia del sacrificio ma non è un sacrificio e non è per il risultato la filosofia del mi sacrifico perché un giorno avrò il risultato farò una vita di merda perché un giorno avrò una pensione tutte queste filosofie qua sono odio il processo ogni giorno soffro e odio quello che sto facendo perché nel giorno di mai arriverà la felicità questa è la ricetta per vivere una vita di merda o per soffrire in generale invece amare il processo che è comunque progressivo ma è un del domanno o è certezza chi vuole essere lieto sia The fighting game community is the name of the collective, but it's not monolithic. There are hundreds or thousands of Discord communities out there for fighting games. Some are game specific, some are character specific. Some are geared towards certain demographics and skill levels. Do some googling and ask around on Twitter until you find a place that feels good for you. Whether it's folks you meet through these communities or your own network of friends, playing fighting games against someone you know is so good. For me, knowing who's on the other side of the connection completely obliterates the frustration and antagonism that I can feel playing against random online opponents. Partially because it's just more humanizing when you know that person, but also because you can ask questions in chat. In che senso Alucard, scusami? Mortal Kombat è quello che lo puoi avere cinque giorni prima se paghi 20 euro in più. Minchia, sti cazzi. Sti cazzi, no, no, io lo piglio a 70 euro, raga. Io i giochi me li pago e non me li danno le case. Io me lo piglio a 70 euro il 19. Sì, so che se lo paghi 20 euro in più lo hai cinque giorni prima. Peace and love, peace and love. Sono già in ritardo, è vero. Però considero che la grande massa dei giocatori arriverà il 19, dai. Spero bene, spero bene. Non necessariamente gli ultra propri perché comunque spendere 20 euro in più è la portata di chiunque. quindi tecnicamente, però secondo me non interessa. Cioè, beh, che cazzo, 90 euro per Mortal Kombat? Oh, calma, calma. Sono esagerato. This makes you stronger. So a good sparring partner will explain exactly how and why they're winning. Until it's time to compete. Very well then. Far be it from me to turn down a challenge. And for a fellow pugilist. Through your community, or just by being online, you might come across some online tournaments. And you should sign up for them. Tournaments are really cool. They offer you the chance to do a lot of things that you won't get in your casual play. First of all, it's one of the few times you and your buddies will step into that magic circle of competition. Mutually and temporarily agreeing to set aside the helpful hints and just going all out. Seeing who will win. If you're used to mostly playing friendlies, it's fun to try out a different vibe. The other useful thing is that it's fucking scary. At first, the first few times I did online tournaments, I literally got shaky and sweaty. I forgot my combos and I mashed buttons. È bella sta cosa, eh? Tremarella, sudore. Mi sono dimenticato al tutto. Ho iniziato a prendere pulsanti a casa. Che ho lì? Figata, figata. È per quello che lo devi fare. Quando I did it, it got easier. Once you've played under pressure, you'll be better in casual settings. Random matchmaking doesn't get my heart rate up like it used to. Finally, a lot of tournaments are streamed on Twitch, which means you might get a chance to re-watch the VOD and hear someone commentate your match. Like a lot of parts of the fighting game process, this can make you feel vulnerable. But a good commentator will put into clear terms what's going on, and that can be an incredible learning tool. They've proven they're pretty good at fighting out of the corner. Already, Doubleman, now back to run into the corner. Again, huge life deficit, but the other way around. Gets hit by the stumps. No, but drops it at the target combo. There is no end. One of the many wonderful and intimidating things about fighting games is that there's no prescribed end goal for your participation. There's no final boss or end game treadmill. Even the best player in the world is only the best until someone surpasses them. No matter where you are in your journey, in some sense, you're still at the beginning. That means you won't always know the next step forward, but it also means you're never falling behind. And as long as you're on that path, learning and having fun, you're doing it right. Bravo, bravo, bravo. Questo è un bel video. Per il buon Max si sarà... Prima o poi almeno i video principali di Max, quelli più belli, ci dobbiamo guardare. Sarà un'altra volta. Bravo il ragazzo di Polygon. Ah, bene, bene così, ragazzi. Dai, ci stava fare questa. Questo lo mettiamo su Wezaplay, a questa live. Ci stava a fare due chiacchiere su questa mia recente decisione di dedicarmi a questa fascinazione in realtà vecchia come me. E quindi, bene così. Vi ricordo che alle 13.30 esce su Weza Channel il video girato in Giappone, ironicamente intitolato, perché era una gag che abbiamo fatto qua su Twitch, su tweet. Weza in Giappone è il film, non mi sono messo a parlare di me stesso in terza persona, e non è un film, cazzo di montaggi da YouTube. Comunque lo ripeto perché già so. E grazie, grazie ragazzi per aver seguito. Ci vediamo sicuramente, a proposito, lunedì alle 14 con Street Fighter 6. La prossima è la settimana di Mortal Kombat e il 19 è mercoledì. Il mercoledì c'è il pomeriggio, c'è il talk. Realisticamente è la sera. Potremmo fare Mortal Kombat. Vediamo. Direi che non è che sono blind con Mortal Kombat di più. E lì si tratterà un po' di provare a fare due gags. E niente, se ci sono delle live extra, tenete le notifiche attivate. State benissimo ragazzi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.